Ok, innanzitutto benvenuti tutti quanti, io mi conoscesse sono Ludovico Cianchetta Vaskets, mi occupo di affitti brevi da ormai un bel po' di anni, sono stato uno dei primi in Italia, se non il primo in assoluto a parlare in maniera virale di questo tema, quando sono entrato nel mercato un bel po' di anni fa, affitti brevi era per chi aveva ereditato la casa dalla nonna, deceduta, e l'aveva buttata su Airbnb con quattro foto fatte con lo smartphone, oggi parlare di affitti brevi è un mercato che vale miliardi, con molte sfaccettature particolari, all'interno del quale poi sono nate tantissime aziende di software, imprese di pulizie, lavanderie, ed è un mercato che vale tantissimi soldi, il mercato si è evoluto molto, io vengo riconosciuto come uno dei massimi esperti per tutto quello che riguarda gli affitti brevi, non solo in Italia ma a livello internazionale, ho formato tantissime persone, questo per darvi un preambolo per chi è arrivato qui oggi, e in questo evento andremo a capire come siamo riusciti ad acquisire centinaia di proprietà nell'ultimo anno, quindi comunque in un lasso dove sicuramente la concorrenza in parte magari è aumentata, ci sono state varie novità anche a livello legislativo, e nonostante in tanti, principalmente coloro che questo business non lo masticano da tanto tempo, che non hanno tanta esperienza, lo definiscono un periodo dove magari è più difficile acquisire, dove è più difficile entrare nel mercato, qualcuno azzarda addirittura a dire che il mercato è saturo, cosa assolutamente non vera come vedremo all'interno di questo evento, e quindi ho deciso di fare questo evento per dimostrare a tutti che il mercato in realtà è più florido che mai, che acquisire è possibile ed è possibile farlo anche in maniera diciamo più semplice paradossalmente rispetto al passato, proprio perché il termine affitto breve, il business affitto breve è stato sdoganato e se prima eravamo noi a cercare i proprietari per convincerli a darci loro immobili in gestione o sublocazione, in realtà oggi è il contrario, sono spesso i proprietari che cercano dei professionisti ai quali dare in gestione loro immobile per metterlo in affitto breve, quindi insomma questo evento andremo a toccare vari temi, parlerò io inizialmente per tutta la durata della presentazione che abbiamo preparato, successivamente al termine del mio monologo potrete parlare voi facendo domande o via chat o sbloccando il vostro microfono o con video o senza video, poco importa, però avrete assolutamente la possibilità di partecipare, fare domande e potremo andare a vedere assieme appunto come aiutarvi, se volete entrare in questo business o se già ci siete dentro e volete migliorarlo, scalare eccetera eccetera eccetera. Per chi dice che non sentite dovete abilitare l'audio su zoom, quindi dovrebbe arrivarvi un pop up all'inizio dicendo entra con audio o entra senza audio, oppure però se io lo dico a voce probabilmente non mi state sentendo e quindi vale molto poco questa cosa qui, se mi sentite perché già avete collegato l'audio. Aspettiamo, vedo che sono uscite e rientrate un sacco di persone, quindi aspettiamo che vengano approvate così non parlo da solo. Vedo che siamo già qualche centinaio qui su zoom, quindi mi fa piacere che insomma il tema sia interessante. Rimanete fino alla fine perché appunto ci sarà la possibilità di fare domande e ricevere risposta. Chiaro che se mi dite Ludovico analizzami il mio bmv a Castellamare di Stabbia non è questo sicuramente l'evento, ma se avete domande su ciò che vedremo, affitti brevi in generale, domande di interessanti un po' a 360 gradi per chi partecipa al webinar, benvengano. Io inizierei, abbiamo preparato appunto una breve presentazione. Innanzitutto benvenuti e grazie di essere qui con noi in questo esclusivo evento. Perché esclusivo? Perché chi mi segue da tanto tempo lo sa, io vado in live molte poche volte e quando lo faccio è perché si tratta di qualcosa di realmente importante ed interessante. E lo scopo di questo video è insegnarvi qualcosa sin da subito, cioè non è che per forza poi dovete fare... Cioè già qui io voglio che voi usciate da questo evento più consapevoli, con più informazioni, con più nozioni, e soprattutto col cervello che vi frulla e vi faccia venire in mente tante belle cose per chi deve entrare in questo business o chi c'è già dentro. Infatti questa sera parleremo di uno degli strumenti più importanti per qualsiasi host, e ci tengo a precisare la parola host e non property manager. Perché property manager può essere erroneamente inteso come colui che gestisce semplicemente case. Mentre quello di cui andremo a parlare è molto interessante anche per chi lavora in sublocazione, per chi acquista, per chi ha ereditato case, per chi ha già anche solo una casa... online ma vuole acquisirne altre. Quindi indipendentemente che voi lavoriate o vogliate lavorare in sublocazione o in gestione, o per assurdo anche in acquisto di proprietà, beh, quello che vedrete quest'oggi è sicuramente per voi molto interessante. Si tratta infatti di informazioni esclusive, finora riservate a pochissime persone, poi capiremo chi, persone che sono divenute poi esperte di settore, ma che proprio oggi letteralmente vi mostrerò senza nessun tipo di filtro e senza nessun tipo di limite, in completa onestà. Ed ecco perché ho fatto una live, perché così avrete la possibilità di farmi domande anche scomode e io vi risponderò dal vivo, al posto di fare il solito webinar dove parlo io, nessuno può dire niente, vi censuro, no, avrete la possibilità in completa trasparenza di fare domande. Ma prima di svelarvi di che cosa sto parlando, ci tengo a fare delle promesse, le solite. Non è un webinar nel quale venderemo il corso sul business che oggi funziona per l'intelligenza artificiale, domani muore, assolutamente no. Se siete qui per guadagnare con bot automatici di trading, cripto cose, no, date fuori, lasciate spazio a coloro che sono in sala di attesa e che non riescono ad entrare per i fantastici limiti che ha Zoom. Quindi ricordatevi che il mondo degli affitti brevi ha dimostrato di essere un vero e proprio business, quindi è un modello imprenditoriale che può essere svolto talvolta anche senza partita IVA in maniera 100% legale, ma non è una di quelle robe lì dove vi promettono i soldi che cascano dal cielo, no. È uno strumento che può rivoluzionare la vostra vita, dove bisogna sicuramente impegnarcisi, i risultati arrivano, ma se siete qui perché volete arricchirvi con due clic, lasciate perdere perché non è questo il luogo. Fatte queste doverose premesse, possiamo proseguire, altrimenti potete anche uscire. Questo evento è dedicato a chi vuole costruire un business nel mondo degli affitti brevi, perché vuole lasciare il lavoro, perché vuole avere una rendita secondaria, o perché magari vuole letteralmente cambiare vita. E vedremo poi, appunto, nel caso studio come diverse persone ci sono riuscite. e andremo anche ad aiutare coloro che già hanno un business nel mondo degli affitti brevi e che non sono a conoscenza di queste strategie, di questi strumenti di cui parleremo e che grazie a ciò invece potranno acquisire con maggior facilità. Dunque, ancora una volta, se il settore degli affitti brevi non ti interessa e non vuoi lanciare il tuo business nel settore degli affitti brevi, lascia stare. L'evento non fa per te e chiudi questa call immediatamente. Vedo che però i numeri continuano ad aumentare, quindi sono contento che siate interessati. Facciamo un breve recap. Con Bambi Academy, negli ultimi anni abbiamo formato migliaia di host e ci tengo a precisare, non solo in lingua italiana, ma anche in lingua spagnola ed inglese. E a breve arriveremo anche nel mercato portoghese. Questo per farvi capire che è un modello di business trasversale. Abbiamo tantissimi studenti che vivono nelle parti più disparate del mondo, anche Santo Domingo, letteralmente dall'altra parte del mondo, e sono riusciti ad applicare questo modello di business. Quindi che voi siate in Svizzera, in Spagna, in Albania, in Grecia, in Portogallo, negli Stati Uniti d'America, il business model funziona allo stesso modo. Chiaramente le leggi magari saranno diverse, le tasse da pagare saranno diverse, le legislazioni saranno diverse, però il business è trasversale e funziona ovunque nel mondo. Anche perché si rifà al turismo, che è letteralmente il business che funziona in qualsiasi paese del mondo. Anche in Corea del Nord esiste il turismo, per farvi capire. Quindi è letteralmente il business più solido che voi possiate avviare, che non conosce crisi, e che non conoscerà mai crisi, perché non c'è metaverso, non c'è realtà virtuale, che possa sostituire un bel viaggio. Questi sono solo alcuni dei casi studio documentati che trovate sul nostro canale YouTube di B&B Academy di persone che hanno cambiato vita, si sono create rendite secondarie, hanno lasciato il lavoro, si sono trasferite all'estero, ne trovate letteralmente a decine, se non a centinaia. Questo perché ve lo sto dicendo, per farvi capire che quello di cui parleremo è concreto. E ognuno di questi casi studio che vedete qui ha al di sotto i link degli Airbnb di cui parlano queste persone. Quindi non possono essere attori pagati, uè ti do 100 euro, fingi di essere soddisfatto di questo corso. No, sono persone che realmente hanno avviato il loro business ed è tutto documentato con dei link dove voi potete vedere le case di queste persone. Ma non sono da visionare adesso, perché se no, chiaramente vi perdete l'evento. Abbiamo vinto anche premi e riconoscimenti, come il premio Le Fonti, e sono stato anche inserito l'anno scorso nei 30 Forbes Under 30, quindi la selezione di Forbes degli imprenditori sotto i 30 anni più promettenti d'Italia, che mi ha fatto ovviamente molto piacere. E quindi vi starete chiedendo a questo punto, Ludovico, ma se questo business già funziona alla perfezione, centinaia di casi studio, hai vinto premi, dov'è il margine di miglioramento? Beh, c'è un margine di miglioramento, devo essere onesto, e l'abbiamo testato appunto nell'ultimo anno. E abbiamo creato un nuovo strumento in grado di cambiare letteralmente le sorti di questo business. È molto semplice. E se anche oggi già stai ottenendo risultati, come tutte le persone che abbiamo visto nei casi studio precedenti, che abbiamo menzionato, beh, nel giro di pochi mesi in realtà potresti comunque migliorare. Tant'è che c'è un caso studio in particolare che andremo a vedere questa sera, è una persona che già aveva fatto una testimonianza con B&B Academy, già aveva ottenuto ottimi risultati, comunque ha deciso di investire su se stesso, di applicare questo strumento di cui parleremo quest'oggi, e comunque è riuscito a migliorare e a moltiplicare ulteriormente la qualità e la quantità dei suoi immobili. E se ancora devi iniziare, beh, questa sera capirai come puoi iniziare direttamente col piede giusto, andando, diciamo, all in e andando direttamente al sodo con uno strumento che ti permetterà di acquisire con ancora più facilità e con ancora più denaro, perché non dimentichiamoci che, ragazzi, raccontiamocela come vogliamo, ma noi siamo qui per guadagnare, siamo qui per fare soldi. Nessuno è nato con l'ambizione di fare il gestore di affitti brevi. Se le persone ad oggi sono collegate a questo webinar, perché vedono in questo strumento un'opportunità per guadagnare, per cambiare vita, avere più tempo da passare con i propri cari, eccetera, eccetera, eccetera. Per farti capire l'importanza di ciò di cui stiamo parlando, voglio portarti un esempio che sicuramente conosci. Andiamo già sul concreto. McDonald's. Tutti noi conosciamo McDonald's. Fast food, può piacere, può non piacere, potete reputarlo cibo spazzatura, ma guardandolo da un punto di vista di business model, McDonald's vende per miliardi di dollari ogni anno e ogni singolo ristorante McDonald's fattura milioni. Io devo essere onesto con voi, un po' di tempo fa mi sono informato per aprire un McDonald's. È difficilissimo, bisogna investire almeno un milione di euro come base. Bisogna fare un anno di formazione presso la sede centrale di McDonald's e bisogna portare poi degli studi di settore per far capire che in quella zona ci può essere richiesta, non devi fare concorrenza ad un altro McDonald's, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente nella tua zona c'è già un McDonald's e sai esattamente dov'è, cosa vende, perché bene o male tutti i McDonald's del mondo vendono le stesse cose, e cosa aspettarti quando ci vai. Vai sul sicuro. A questo punto voglio farvi una domanda, fatta questa premessa. Provate a pensare ad un altro ristorante di hamburger o similari nella vostra zona. Quindi, bene o male, può avere, anzi sicuramente avrà una qualità migliore rispetto a McDonald's, avrà potenzialmente prezzi più bassi o simili, magari addirittura essere più in centro, avere, diciamo, queste chicche che rendono di norma un luogo di hamburger più gourmet, più figo, sai, quelli che te lo vendono con la barba lunga, i guanti neri, che fa tutto un po' scena. Ma comunque, questi luoghi di norma fatturano molto meno di McDonald's e valgono molto meno sulla carta. Dunque, un ristorante può essere migliore, con una qualità migliore, metterci molto più impegno, anima, sangue, qualsiasi cosa che tu vuoi, e comunque quel ristorante varrà sempre meno del fast food che tutti criticano e dicono che fa male, quel locale può avere anche prezzi inferiori e qualità maggiore, può essere anche veramente nel centro della vostra città, mentre il McDonald's magari è nella stazione dei treni, e può avere i titolari più simpatici e gentili del mondo. Eppure, ancora una volta, McDonald's fatturerà milioni per singolo punto vendita, avrà dei margini altissimi, e soprattutto quel singolo punto vendita, che voi pensate che McDonald's si ha tutto di McDonald's, no, in realtà anche il singolo McDonald's appartiene poi ad una società alla quale fa capo magari un imprenditore del posto. Ha aperto recentemente un McDonald's in Molise, probabilmente quel McDonald's lì appartiene ad un imprenditore del luogo che si è preso il franchising di McDonald's. e quindi questo imprenditore magari ha speso due milioni per aprire quel McDonald's lì e dopo due anni quello vale cinque milioni. Il tutto senza fare marketing, perché non è che il singolo imprenditore si metta a fare marketing, il marketing è nazionale a livello di McDonald's, e il tutto vendendo prodotti inventati da altri, perché non è che lui si è inventato l'hamburger speciale, cioè lui prende quello che gli dà il franchisee, il franchising, scusate, e lui lo rivende. Dall'altra parte tu ti puoi creare il brand più figo del mondo, noi ci siamo inventati per questo webinar B&B Burgers. Puoi fatturare anche 200.000 euro l'anno, ma hai dei margini bassissimi, il valore in caso di rivendita è inutile, sei schiavo del tuo lavoro perché in qualità di titolare ci devi passare mattino, pomeriggio e sera, lavori tutto il giorno e ti rimangono in tasca due lire. A questo punto starete pensando Ludovico, ma tu che ne sai di quanto si guadagna con la ristorazione, i margini e quant'altro? Beh, vi ho detto, da un lato mi sono informato per aprire un McDonald's, ma dall'altra parte, per chi mi segue da molto tempo lo sa, mia madre aveva un ristorante. Infatti, prima di entrare nel mondo degli affitti brevi, mia madre possedeva un piccolo ristorante a Milano, un ristorante argentino, principalmente, dove la cura per il cliente e la qualità del cibo erano ai massimi livelli, tant'è che vinceva pure i riconoscimenti di TripAdvisor, i premi e tutto quanto. Le recensioni erano ottime, i clienti la adoravano, tant'è che per 26 anni mia madre ha avuto praticamente gli stessi clienti, ma nonostante ciò, al netto di tutte le spese, dei dipendenti e quant'altro, i margini erano bassissimi e si metteva in tasca letteralmente poco più di un impiegato, 1400 euro, 1600 euro netti, lavorando però letteralmente come una schiava. E questo ci ha costretto ad una vita comunque abbastanza distenti, mai vacanze, regali di Natale, se andava bene e nessun tipo di sfizio. Quindi di come gira la ristorazione lo so molto bene. Dopo aver avviato invece lei il suo business di Airbnb, dopo 26 anni di schiavitù nel ristorante, ha venduto la sua attività di ristorazione a due lire, perché comunque era piena di debiti a causa del covid, eccetera, eccetera, eccetera. È riuscita a ripagare questi debiti e si è messa in tasca, onestamente. Poche migliaia di euro, però almeno è riuscita a non andare in perdita e a pagare comunque tutti i debiti che aveva fatto. Nello stesso tempo, però, nonostante il covid, nonostante tutto, il McDonald's di zona è sempre stato pieno e il valore ad oggi dei McDonald's presenti in prossimità dell'ex ristorante mia mamma comunque si ammonta a decine di milioni di euro. Perché? Perché ancora una volta è un brand consolidato, famoso, che tutti conoscono. E quindi tutto questo preambolo che vi ho fatto è per spiegarvi una cosa. Questa è la potenza del brand. Cioè, il ristorante di mia madre che si chiamava Ristorante Mio non è un brand famoso, vale oggettivamente molto poco e per di più in competizione con un grosso brand il grosso brand la vincerà sempre. E quindi poi insomma abbiamo analizzato la situazione e abbiamo capito che conveniva chiudere letteralmente piuttosto aprire su McDonald's. Solo che aprire un McDonald's richiede, come ho detto prima, un investimento minimo di un milione di euro e quindi mia madre si è buttata nel business degli affitti brevi. Però, tornando sempre al perché McDonald's è così forte, beh, McDonald's è in grado di vendere e di far vendere a chi usa il proprio brand con una semplicità incredibile. Cioè, se lo stesso hamburger vi viene venduto da B&B burgers, voi non ci andate, voi non vi fidate, capite? Non vale niente lo stesso prodotto in mano ad un'altra catena. e non importa quanti sforzi il piccolo ristorante possa fare, non riuscirà mai ad avvicinarsi ai risultati di un brand forte. Perché? Perché poi tutti i McDonald's Italia pagano una percentuale alla casa madre e la casa madre fa un marketing incredibile con pubblicità in tv con Gio Bastiani, c'è chi più ne ha più ne metta. Quindi far parte di un qualcosa di più grande ti permette anche a te che magari sei il singolo imprenditore di avere un vantaggio importante ed è ad esempio poi perché i studenti B&B Academy statisticamente ottengono risultati migliori rispetto agli altri. Perché comunque fanno parte di una community, ci si aiuta gli uni gli altri e si può ottenere di più. Però abbiamo deciso di portare questo concetto ad un livello più alto. Perché lo stesso appunto succede nel settore degli affitti brevi. Mentre i singoli host si riescono ad acquisire, lavorano duro e guadagnano con la loro piccola attività e a due, tre, quattro case è una piccola attività e poi ci sono host che sfruttano la fama, la reputazione di brand più grossi di loro e più famosi per attirare a sé nuovi immobili ogni mese, quindi si parla di una crescita costante ed importante, prepararli velocemente, quindi non ci metto tre mesi a pubblicare l'immobile su Airbnb ma ho un metodo scalabile e replicabile e li affitto anche, sempre in virtù del brand che ho, a dei prezzi più alti della media, cioè adesso non so se vi siete resi conto voi al McDonald l'ultima volta ma pure la maionese tra un po' costa un euro, cioè chi è che paga un cubetto così di maionese un euro, chi è che paga un cheeseburger di quella qualità 6 euro, 7 euro, andate in Svizzera costa anche il doppio, cioè uno paga perché ha il brand dietro e per quanto possa essere un fast food ragazzi ormai al giorno d'oggi costa tanto pure il McDonald e può farlo solo perché c'è il brand, lo stesso prodotto, se avesse un altro nome dietro non se lo filerebbe nessuno ed ecco perché noi abbiamo creato non so quanti di voi lo conoscano Rental Pro ormai un anno fa Rental Pro è un franchising tra virgolette ci tengo a dirlo che incarna un po' il concept di McDonald ovvero un unico brand importantissimo nel settore degli affitti brevi che permette a tutti coloro che decidono di affiliarsi e di poterlo sfruttare di usufruire di tantissimi vantaggi che operando in maniera singola diciamo non potrebbero ottenere e adesso andiamo a capire il perché e vi voglio parlare di tutti i numeri che abbiamo raccolto come Rental Pro nell'ultimo anno perché sono veramente strabilianti Rental Pro innanzitutto è diventato in solo un anno il più grande ed importante network di host in Europa in solo un anno abbiamo rivoluzionato il mercato questo per numero di affiliati e di proprietà gestita ma cosa significa? è molto semplice Rental Pro è il brand che include i migliori host in tutta Europa centinaia di proprietà e fornisce a tutti questi host una serie di strumenti indispensabili che permette loro di acquisire con più facilità di gestire con più facilità e di ottenere più prenotazioni perché il lavoro dell'host è principalmente tre cose trovare una proprietà pubblicarla sui portali e fargli ottenere prenotazioni tu puoi acquisire tutte le proprietà che vuoi ma se poi non sai pubblicizzarle è completamente inutile fallirai o dall'altra parte puoi essere bravissimo nel valorizzare una proprietà ma se acquisisci una casa all'anno i tuoi guadagni rimarranno sempre quelli 1.500 2.000 3.000 euro al mese finisce lì se hai grosse ambizioni vuoi costruirti una società con tantissimi immobili è molto difficile che tu singolo in completa autonomia riesca a scalare in un mondo dove ormai comunque di property manager ce ne sono abbastanza bene tutti insieme quindi oltre 100 property manager con la direzione di un team di esperti del settore di cui non faccio parte solo io perché poi dentro rental pro come vedremo ci sono tante persone molto importanti nel settore degli affitti brevi e nel settore immobiliare siamo stati in grado di sviluppare dei progetti e degli investimenti che per il singolo property manager sarebbero stati impossibili un esempio beh rental pro mette a disposizione di tutti gli affiliati un vero e proprio brand istituzionale con un marchio registrato un sito web professionale un'immagine coordinata e centinaia di migliaia di euro investiti ogni anno in marketing e pubblicità come andremo a vedere adesso io chiedo a qualcuno di voi se ha mai speso 150 mila euro in un anno di pubblicità nel settore degli affitti brevi solo su facebook me lo faccio a sapere perché io non ho mai conosciuto qualcuno in grado di investire così tanti soldi senza considerare poi tutti gli altri strumenti di advertising che utilizziamo e questo perché c'è possibile proprio perché rappresentiamo oltre 100 property manager quindi è chiaro che il singolo property manager non potrebbe mai attingere a ciò ma facendo parte di un gruppo più grande paragonabile diciamo al business model di McDonald che abbiamo menzionato prima può invece ambire ad arrivare a livelli a media eccetera 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 che in completa autonomia non potrebbe mai e poi mai raggiungere in parole povere i nostri affiliati hanno a disposizione campagne di marketing per dirla proprio alla francese attive 365 giorni l'anno senza muovere un dito cioè in completa autonomia mentre magari stanno sorseggiando un caffè c'è un intero team di esperti di marketing che fa delle campagne pubblicitarie per loro conto al fine di convincere proprietari a darci in gestione i loro immobili possono oltre a questo proporsi ai proprietari utilizzando un brand che il proprietario conosce che magari ha già visto in tv sui giornali su internet quindi non mi presento chiamando e dicendo ah ciao sono Ludovico gestisco casi in affitto breve no sono Ludovico affiliato di RentalPro una società svizzera leader nel settore degli affitti brevi con immobili sparsi in tutta Europa capite che un proprietario se si trova di fronte al singolo property manager o a un affiliato di una società svizzera con centinaia di immobili in tutta Europa va da sé che quel proprietario sceglierà sempre l'affiliato RentalPro a meno che questo non faccia delle gaffe incredibili ma è molto improbabile questa persona essendo affiliata ad un grosso brand sceglierà il grosso brand rispetto al singolo poi ovvio che se siete fortunati e quel proprietario non riceve nessuna proposta da parte di un affiliato RentalPro ve lo portate a casa ma se vi trovate ad uno scontro diretto con un affiliato del nostro network è molto difficile che voi possiate convincere un proprietario in completa autonomia ed inoltre già qui potremo fermarci tra pubblicità migliaia di numeri di telefono di proprietari interessati passati agli affiliati eccetera eccetera tutti i nostri affiliati ricevono una serie infinita di servizi benefit e privilegi che andremo ad approfondire più avanti perché ciò perché se RentalPro ha degli affiliati che acquisiscono tante case anche RentalPro cresce sarebbe come dire ti apri il McDonald e poi se vendi panini bene se non li vendi chi se ne frega no è nostro interesse che chi entra a RentalPro acquisisca tante case così il gruppo cresce e non è un network marketing ci tengo a precisarlo non stiamo parlando di network marketing stiamo parlando di un business model simile a quello di Remax Tecnocasa eccetera eccetera ovvero entro in un brand molto forte il brand mi permette di crescere a me e io permetto di crescere al brand con la differenza che Remax Tecnocasa eccetera lo fanno come agenzie immobiliari noi siamo qui invece a farlo con gli affitti brevi ma non solo perché ogni affiliato RentalPro appunto poi ha la possibilità di collaborare con altri affiliati e infatti se vedete ad oggi siamo presenti calcolando solo l'Italia quindi senza andare a mostrare gli affiliati in Spagna in Svizzera e tanti altri luoghi già solo in Italia siamo presenti bene o male ovunque e capita spesso che un affiliato abbia l'opportunità di gestire una casa dall'altra parte d'Italia che altrimenti dovrebbe cestinare perché è un affiliato di Milano come se la gestisce una casa ad esempio in Sicilia beh cosa fa contatta l'affiliato della Sicilia collaborano assieme e ciò permette ad entrambi di guadagnare da un cliente che altrimenti andrebbe perso e sono contento di dire che veramente tantissime case del Network RentalPro sono state prese in collaborazione tra affiliati e spesso poi gli affiliati hanno aperto anche delle società assieme si sono conosciuti all'interno di RentalPro e grazie al nostro Network hanno deciso di diventare soci e di crescere tutti assieme questa immagine poi in realtà diciamo accomuna nello stesso cerchio tanti affiliati ma vi posso assicurare che siamo letteralmente quasi ovunque in Italia ma ahimè se stiamo facendo questo evento è perché gli affiliati che abbiamo non bastano c'è molta più richiesta di quella che ad oggi è presente andando avanti voglio anche spiegarvi che entrare a far parte del Network di RentalPro garantisce dei vantaggi impossibili da ottenere come dicevo prima per il singolo property manager ma andiamogli a vedere uno ad uno per farvi capire innanzitutto partiamo dal brand costruire un brand è una cosa seria non si parla di ma mi invento un nome faccio la srl con quel nome e ho il mio brand no quella roba lì non vale assolutamente niente dal momento in cui ti iscrivi a RentalPro da contratto tu puoi utilizzare il brand RentalPro vuoi appiccicare uno sticker sulla macchina puoi farlo tutti i proprietari che contatterai li potrai contattare dicendo che sei un affiliato RentalPro vuoi scriverlo su Instagram puoi scriverlo su Facebook avrai tutta una serie di materiali bigliettini da visita documenti ufficiali badge insomma diventerai in tutto e per tutto un affiliato RentalPro a 360 gradi e quindi non ti presenti come ripeto il singolo col nome e cognome ma ti presenti con sì il tuo nome e cognome ma associato ad un grosso brand avrai tutta una serie di campagne marketing realizzate per te in esclusiva quindi i numeri di telefono che ottieni tu di quei proprietari interessati nella zona che tu hai scelto sono tuoi non è che li devi condividere con qualcuno poi se vuoi condividerli perché magari in quella zona non sei presente o non vuoi operare o è troppo distante o vuoi un qualsiasi tipo di aiuto puoi farlo ma i numeri di telefono che tu ottieni sono tuoi le case te le gestisci tu e sono tue in esclusiva e hai anche tanti servizi done for you non è che ti chiediamo di metterti lì a programmare il sito web o ti chiediamo di impazzire dietro facebook no tu ci dici cosa vuoi ottenere da queste campagne e tu ci dici cosa vuoi che ci sia scritto sul sito e il nostro team di professionisti fa tutto questo lavoro al posto tuo ed ecco perché hai dei servizi done for you come dicevo avrai anche un sito web professionale con una pagina a te dedicata ad oggi farti fare un sito web fatto bene ma realmente fatto bene solo quello ti costa migliaia di euro e soprattutto chi lo va a vedere nessuno se non investi in pubblicità e oltre a questo hai un'immagine coordinata dove tu senza fare niente hai post che compaiono su instagram campagne marketing giornali che parlano di te quindi letteralmente tu puoi anche non accendere il telefono per una settimana ma in quella settimana comunque noi abbiamo lavorato a livello di branding per far conoscere sempre di più rental pro ed essendo tu parte di rental pro stai usufruendo diciamo di tutta questa visibilità senza fare niente come dicevo prima non è che il proprietario del singolo mcdonald va in giro ad affiggere cartelloni no è il brand principale mcdonald italia che fa pubblicità per conto di tutti i suoi affiliati e la stessa cosa facciamo noi e questo ci permette poi di avere numeri in costante crescita con veramente dei dati incredibili che vedremo tra pochissimo proprio parlando di crescita questo ci permette poi perché non siamo qui insomma per menarcela o per flexare siamo qui per acquisire immobili questo ci permette di acquisire molti immobili velocemente ed ecco perché in un anno siamo riusciti come rental pro ad acquisire centinaia di immobili ma andremo a vedere più avanti il tutto più nello specifico oltre a questo avete la possibilità di accedere a dei servizi esclusivi perché in qualità di gruppo siamo riusciti a contrattare convenzioni assicurazioni scontate professionisti che offrono consulenze gratuite perché siamo parte di rental pro convenzioni con associazioni di categoria basti pensare che rental pro è associata sia con property managers italia che con l'associazione italiana gestori affetti brevi quindi è ovvio come singoli property manager potreste associarvi ma entrando in rental pro siete anche rappresentati nelle sedi istituzionali come facenti parte di un gruppo importante sono tutte cose che magari uno non ci pensa ma quando uno viene a conoscenza del fatto che queste cose esistono capisce l'importanza cioè domani voi volete far valere la vostra voce in sede istituzionale cosa andate sotto Montecitorio con un cartellone non non vi ascolterebbe nessuno passando attraverso noi abbiamo la possibilità di dialogare direttamente con le OTA ad esempio booking.com siamo in diretto contatto con booking.com piuttosto che con Airbnb piuttosto che con queste associazioni di categoria ovviamente abbiamo un peso diverso rispetto al singolo e questo poi si tramuta anche appunto in convenzioni in sconti speciali che abbiamo con tutta una serie di software con tutta una serie di brand eccetera eccetera ad esempio dei brand che utilizziamo per automatizzare i nostri B&B ci hanno dato dei codici sconti esclusivi validi solo per gli affiliati Rental Pro e soprattutto avendo noi molto interesse nel che coloro che si associano a Rental Pro possano aumentare il loro numero di immobili abbiamo dei veri e propri mentor barra coach chiamateli come volete che offrono formazione dedicata cioè noi ci vediamo bene o male ogni due settimane su Zoom facciamo delle videochiamate ci sono io che parlo ci sono altre persone molto importanti nel settore degli affitti brevi e ascoltiamo quali sono i problemi che possono avere gli affiliati diamo consigli analizziamo casi studio di successo di altri affiliati che magari hanno acquisito in una settimana dieci case andiamo a derogare formazione gratuita quindi attraverso come dire un percorso di inseminazione cioè io semino e poi pian piano questa pianta cresce noi investiamo oggi negli affiliati per far sì che un domani rappresentino insomma dei property manager con decine o centinaia di case che poi sono sotto il network Rental Pro ed infine tutto ciò diventa anche visibilità perché come dicevo prima ovviamente investiamo un sacco di soldi in pubblicità io ho la mia visibilità personale Rental Pro come brand è già stato menzionato da Forbes in un articolo dedicato agli affitti brevi eccetera eccetera tutti gli affiliati Rental Pro possono forgiarsi del fatto che Rental Pro ad esempio è finita su Forbes tutte le campagne di marketing che facciamo come dicevo prima sono fatte per gli affiliati Rental Pro non fa pubblicità per far conoscere Rental Pro Rental Pro fa pubblicità per far conoscere il singolo affiliato nella propria zona gli affiliati di Roma ottengono pubblicità mirate su Roma gli affiliati di Firenze ottengono pubblicità su Firenze e via andando il tutto con un solo fine acquisire proprietà e oltre a ciò appunto ci sono anche campagne stampa trasmissioni televisive radiofoniche e tanto altro ancora domani un affiliato a Rental Pro tra l'altro verrà intervistato in radio proprio in virtù dell'attività che fa nella sua zona quindi accade che andiamo noi come brand accade anche che vadano i singoli property manager come appunto esperti di affitti brevi nella loro zona ed infine la collaborazione come dicevo prima permette agli affiliati Rental Pro di trovare partner ovunque ovvero acquisire immobili anche laddove poteva sembrare impossibile come collaborazione sia anche un'assistenza dedicata per risolvere tutti i propri problemi che si possono avere quindi con dei mentor delle community delle chat ci sono tante metodologie per ottenere assistenza e non finisce qua perché abbiamo anche dei commercialisti e degli avvocati dedicati agli affiliati Rental Pro che possono avere problemi e possono usufruire di consulenze spesso gratuite per risolvere i loro problemi basti pensare che ogni affiliato Rental Pro quando entra a Rental Pro ha una consulenza gratuita con lo studio allievi per valutare la partenza di questo business come parti come non parti vuoi iniziare come persona fisica hai già una partita IVA eccetera 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 ma tutto questo può essere bellissimo da raccontare ma potrebbe anche essere inutile ed ecco perché vogliamo parlare di risultati reali potrei infatti stare ore e ore a raccontarvi tutti i motivi per cui Rental Pro è un acceleratore per qualsiasi persona che voglia lavorare negli affitti brevi ma preferisco utilizzare un esempio reale e pratico di due affiliati ad esempio che sono partiti in condizioni molto diverse tra di loro ma entrambi hanno trovato valore e beneficiato dal network Rental Pro quindi adesso vi analizzo due casi studio reali di persone che partono da due situazioni completamente diverse tra loro ma entrambi hanno beneficiato dal fatto di essere dentro Rental Pro il primo è Patrick Capuzzo col quale abbiamo fatto due interviste recentemente una per B&B Academy e una per Rental Pro perché sono comunque due aziende diverse ci tengo a specificarlo Patrick è un ex pizzaiolo quindi proprio con gli affitti brevi non c'era niente a che fare non aveva esperienze nel settore immobiliare ed eventualmente questa cosa la potrete diciamo constatare nelle relative testimonianze ad oggi meno di un anno acquisito oltre 20 immobili per la precisione 22 e nella testimonianza poi ci ha anticipato che per fine luglio dovrebbe arrivare a 38 immobili perché diversi sono in trattativa sono in fase di avviamento quindi meno di un anno oltre 20 immobili lavora in tutta Italia anche in località dove non è mai stato in vita sua questo collaborando con altri affiliati Rental Pro quindi lui praticamente non si scolla da casa sua perché ha dei figli giustamente ma grazie a ciò comunque gestisce immobili in altre parti d'Italia guadagna ogni mese per sua stessa missione ben più di quanto guadagnasse prima con le sue con la sua attività di pizzaiolo e ha automatizzato tutti i processi di ingresso degli ospiti pulizie eccetera 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 come spiegato all'interno di Bambi Academy e Rental Pro perché poi chi si affilia a Rental Pro ha tutta la formazione di Bambi Academy gratuitamente e quindi riesce non solo a guadagnare più di prima ma ad avere tempo libero per dedicarsi alla sua famiglia che comunque ragazzi è una cosa molto importante cosa che prima non riusciva a fare perché la maggior parte del tempo lo passava in pizzeria abbiamo poi un altro caso studio che è Simone che non c'entra niente con le pizzerie è un property manager che ad oggi opera in Liguria a Borghetto Santo Spirito quindi parliamo neanche di Genova Portofino chissà che location megagalattiche ma comunque Borghetto Santo Spirito è zona limitrofe ha un suo mercato sono tante persone principalmente dalla Lombardia al Piemonte che vanno in questa zona è entrato in Rental Pro con un portfoglio già importante di oltre 50 immobili quindi comunque è un property manager che si è affermato già prima di Rental Pro ma nonostante ciò ho trovato del valore in Rental Pro e grazie al boost diciamo all'accelerazione che gli ha dato il brand ad oggi ne gestisce oltre 90 e ha aumentato anche la qualità delle proprietà tant'è che poi nell'ultima chiamata ha detto forse preferisco quasi ridurre il numero di proprietà ma averne solo di alto livello per massimizzare i profitti però nonostante ciò una persona che già aveva tantissimi immobili è riuscita ad avere un grosso aumento di fatturato e di immobili grazie al brand quindi se già poteva ritenersi in gamba anche fortunato da un certo punto di vista nell'aver acquisito 50 immobili ha capito che gli mancava un qualcosa per fare il salto di qualità e oltre a ciò vista la sua grande esperienza ad esempio abbiamo deciso di farlo collaborare con Rental Pro e quindi è passato dall'essere un affiliato ad essere un affiliato e anche coach che possa aiutare gli altri affiliati quindi per farvi capire non è che entrate in Rental Pro e c'è Ludovico che vi spiega le cose come può esserci in Bambi Academy no in Rental Pro avete Ludovico più un sacco di altre persone che sono entrate con i vostri stessi obiettivi che li stanno raggiungendo e che anche grazie a degli incentivi economici che ovviamente diamo noi aiutano gli altri affiliati a crescere perché non è un affiliato o un competitor un affiliato è un collaboratore nel senso che se Simone acquisisce più case significa che il gruppo Rental Pro cresce e se il gruppo Rental Pro cresce anche l'affiliato che è in Sicilia in Calabria in Lombardia da un'altra parte rispetto a dove è Simone ne può beneficiare perché può forgiarsi di un brand sempre più forte con più case più famoso con numeri più grandi con fatturati sempre più alti tant'è che poi lo vedremo a brevissimo abbiamo aperto addirittura un punto fisico a Roma vicino al Colosseo una boutique immobiliare come la chiamo io perché è veramente molto ben curato come spazio fisico e nonostante la boutique immobiliare sia stata aperta da tre affiliati Rental Pro anche tutti i restanti affiliati del network hanno beneficiato di questa cosa perché quando si vanno a presentare possono dire sa abbiamo anche un punto fisico a Roma a due passi dal Colosseo e nonostante loro non abbiano le chiavi di quell'ufficio nonostante loro non abbiano accesso a quell'ufficio in qualità di titolari beneficiano di questa cosa non so se capite il concetto ma andiamo avanti in realtà ho scritto due casi studio ma poi ne abbiamo aggiunti altri per non rimanere solo al maschile abbiamo aggiunto anche ad esempio Alessandra che è un ulteriore caso studio è un ex consulente di marketing ed era interessata agli affitti brevi quindi non aveva pretese di diventare diciamo l'Elon Musk degli affitti brevi e nonostante ciò entrata nel settore degli affitti brevi da esperta di marketing conosceva tutte le difficoltà del creare un brand solido riconosciuto e riconoscibile e quindi appunto nel 2023 un anno fa è entrata in Rental Pro decide di puntare ad un tipo di immobile ben preciso ovvero le ville di lusso e ad oggi gestisce sette immobili di alto livello con una cospicua provvigione quindi non ha deciso di puntare su venti e rotti casi come magari ha fatto Patrick ha deciso magari faccio meno case ma di livello più alto con una strategia diversa perché comunque non tutti entrano in Rental Pro per diventare milionari c'è anche chi magari dice voglio acquisire sette case all'anno che comunque sono un quantitativo ad esempio buono ognuno entra con diciamo una sua reason why con un motivo l'importante è capire a cosa serve Rental Pro e poi persegue i suoi obiettivi sfruttando tutto quello che noi diamo a disposizione chiaro che se la vostra idea è entrare in Rental Pro per acquisire una casa all'anno vi fermo subito perché a noi non ci interessa avere affiliati di questo genere e poi abbiamo appunto Fabio Alessio e un altro Fabio che sono i ragazzi che hanno aperto il punto a Roma che vi dicevo prima sono tre affiliati che prima di entrare in Rental Pro non si conoscevano quindi erano tre perfetti sconosciuti si sono conosciuti ad uno degli aperitivi Rental Pro che organizziamo perché organizziamo aperitivi pranzi cene eventi chi più ne metta ero presente anch'io gli ho detto ragazzi dobbiamo aprire assolutamente un punto a Roma abbiamo raccolto le persone che erano interessate abbiamo organizzato delle chiamate e alla fine tra loro si sono trovati erano affiliati che operavano in maniera singola ognuno aveva le sue case la sua partita IVA i suoi profili su Airbnb si sono uniti hanno aperto col nostro aiuto il primo punto a Roma due passi dal Colosseo hanno aperto una SRL ed oggi ottengono dei risultati strabilianti e ci tengo a precisare non si conoscevano prima di entrare in Rental Pro questo perché noi favoriamo tantissimo le connessioni la collaborazione le partnership è fondamentale sia nella mia vita sono arrivato dove sono arrivato è proprio perché ho puntato sempre sulle collaborazioni e sul non fare il figo che io so tutto e io sono il migliore del mondo no è stato molto importante per me circondarmi di persone in gamba per arrivare dove sono arrivato oggi appunto non solo hanno aperto la loro SRL ma hanno anche una boutique su Roma a due passi dal Colosseo loro hanno puntato su Rental Pro ma hanno puntato anche sull'apertura dello spazio fisico e quando l'hanno aperto non hanno fatto nient'altro che costituire la SRL con il loro capitale ma oggi quella SRL già vale tantissimo sia per gli immobili che sono stati acquisiti dalla SRL ma anche per il fatto di avere praticamente il primo spazio fisico su Roma dedicato solamente agli affitti brevi cioè voi andate a Roma fatevi una passeggiata trovate solo agenzie immobiliari questo qui di Rental Pro è praticamente il primo spazio fisico che esiste a Roma dedicato solo ed esclusivamente agli affitti brevi e questa cosa vale tantissimo se non domani qualcuno vuole comprarsi la loro SRL fatta di immobili più affiliazione a Rental Pro più spazio fisico questa roba vale una paccata di soldi e grazie a questo ufficio che non è stato fatto tanto per avere un luogo di ritrovo per bersi un caffè beh acquisiscono ogni settimana immobili principalmente di pregio dai residenti chiaramente a Roma ma anche da magari i turisti che passano di lì è capitato che gente di Milano passasse lì nell'ufficio di Roma per dargli immobili in gestione ovviamente se li vengono proposti immobili al di fuori della loro zona operativa collaborano con altri affiliati Rental Pro ma torniamo un attimo indietro per farvi capire che cosa è Rental Pro perché detta così può sembrare un brand che esiste da 15 anni eppure in solo un anno abbiamo fatto tantissimo perché tutto quello che state vedendo l'abbiamo fatto in solamente un anno quindi vi lascio immaginare da qui in avanti che cosa potremo fare la prima presentazione come idea di Rental Pro è stata fatta a gennaio 2023 già al tempo decine di property manager sono entrati per contribuire ad un progetto grande e ambizioso di cui però esisteva ben poco ma da quel giorno abbiamo fatto veramente tanta strada gli affiliati Rental Pro infatti come abbiamo visto hanno già aperto delle sedi fisiche ad ottobre abbiamo inaugurato la prima boutique su Roma e vi lascio un brevissimo video senza audio commentato per farvi vedere l'inaugurazione che abbiamo fatto non so come gli inviti erano 200 a fine giornata le persone si sono moltiplicate abbiamo superato le 300 persone questo perché perché tantissima gente che anche solo passava di lì per caso e vedeva questa polla vedeva questo quantitativo di persone chiedeva informazioni è strano per una persona camminare e trovare un'agenzia che parli di affitti brevi è veramente ha catalizzato l'attenzione sono venute tantissime persone sono venuti altri affiliati da tutta Europa sono venuti i proprietari degli immobili che gestivano sono venuti studenti B&B Academy sono venuti tanti curiosi ed è stato un successone come vedete da questo video e ci ha permesso veramente di anche solo con un semplice evento far conoscere il brand molto di più e nei giorni successivi tante persone che erano passate lì fuori per puro caso sono ritornate poi per dire ah sa io ho un immobile io conosco una persona di qua di là quindi è stata sicuramente una scelta azzardata da un certo punto di vista ma che ha funzionato ed ecco perché abbiamo deciso di replicare e alla fine di questo mese apriremo la seconda boutique a Milano e ne parleremo a brevissimo perché ci sarà un'inaugurazione alla quale potrete partecipare anche voi proprio per farvi capire che rental pro rental pro è reale non è digitale non è puffa non è aria fritta è un qualcosa dove voi domani se volete andate a Roma via le manzoni 29 con i vostri occhi vedete che lo spazio è lì i ragazzi sono lì acquisiscono case sono contenti sono soddisfatti ed è tutto concreto non stiamo parlando di aria fritta e come ho detto poco fa nei prossimi giorni inaugureremo in una location centralissima quindi non in periferia zone dimenticate da dio ma tra il Duomo e il Castello Sforzesco una nuova boutique immobiliare che seguirà lo stesso concept di quella di Roma l'obiettivo inutile dirvelo è comunque quello di avviare tantissime nuove boutique prossimamente nelle città non solo italiane ma anche europee perché abbiamo già affiliati sparsi in tutta Europa a questo proposito restate collegati fino alla fine perché vi spiegherò come potrete partecipare anche voi all'inaugurazione dell'evento di Milano ma andiamo a capire visto che è un caso studio e ripeto voglio insegnarvi qualcosa di concreto quali sono stati i tre strumenti che ha utilizzato Rental Pro per acquisire centinaia di proprietà nell'ultimo anno perché Rental Pro è stato lanciato a gennaio ma poi il tempo di far entrare tutti gli affiliati e di avviare tutto quanto abbiamo iniziato circa ad aprile 2023 quindi letteralmente in un anno abbiamo ottenuto questi risultati i metodi sono principalmente tre e il fulcro di questo metodo è che non devono essere gli affiliati a chiamare a freddo su idealista immobiliare.it ma devono essere i proprietari a cercare noi quindi il metodo numero uno è stato advertising pubblicità tantissimi soldi spesi Rental Pro fa pubblicità su facebook e instagram quotidianamente da un anno ininterrottamente per raccogliere contatti di proprietari interessati a dare il loro immobile in gestione property management o sublocazione ogni affiliato quando si iscrive Rental Pro esprime come vuole operare guarda io voglio operare in sublocazione voglio operare in property management voglio operare in entrambe le metodologie cerco solo immobili di un tipo piuttosto che di un altro e questo permette a noi di fare delle campagne mirate cioè non è che c'è una campagna unica c'è un immobile contattaci no per l'affiliati di Roma che vogliono operare in sublocazione faremo un tipo di campagna per l'affiliato in Liguria che vuole operare in property management faremo un altro tipo di campagna per l'affiliato che vuole operare sia in Liguria che in Toscana ad esempio faremo un altro tipo di campagna ancora quindi ogni campagna marketing è personalizzata al fine di ottenere il migliore risultato possibile e ripeto non è il metti mi piace la pagina ma è il lasciami il tuo numero di telefono così ti ricontattiamo e capiamo il tuo immobile in affitto breve quanto può generare questi contatti vengono distribuiti agli affiliati in maniera automatica in base a se clicco la campagna di Fabio i numeri arrivano a Fabio se clicco sulla campagna di Alessandra i numeri arrivano ad Alessandra e nell'ultimo anno abbiamo investito oltre 140 mila euro in acquisizione di numeri di telefono sfruttando Facebook ed Instagram quello che abbiamo notato è che poi spesso i numeri di telefono di queste persone diciamo magari nell'immediato non fruttano case ma magari dopo due mesi tre mesi quattro mesi tempo che l'inquilino va via tempo che la persona si convinca eccetera 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 permettono di acquisire case talvolta abbiamo visto anche che magari un affiliato da quel numero di telefono non è riuscito a convincere il proprietario si è scambiato il numero di telefono con un altro affiliato e l'altro affiliato magari è stato più convincente è stato più simpatico ha utilizzato delle leve diverse ed è riuscito ad acquisire e poi questo immobile è stato suddiviso a livello di provvigione tra entrambi quindi questa è una cosa che ovviamente se non fate parte di un network non potete fare e vi spiego anche il perché uno potrebbe dire vabbè ma io contatto il mio amico che vive in Sicilia e collaboro con lui sì ma il tuo amico che collabora in Sicilia in Sardegna o dove volete voi che vincoli ha nel senso chi è dentro RentalPro ha firmato lo stesso contratto ha lo stesso diciamo patto di non concorrenza ha le stesse clausole ha lo stesso impegno c'è anche un codice morale ed etico un codice comportamentale quindi tu stai sicuro che se collabori con un affiliato RentalPro questo non fa stupidaggini mentre tu puoi collaborare con un completo sconosciuto a me è successo in passato purtroppo di essermi affidato a delle persone che sembravano anche oneste viste così e poi magari non ti pagano scappano con il contatto sono poco serie mentre se tu collabori con una persona di RentalPro sai che ha anche delle penali se si comporta male e quindi stai tranquillo che di stupidaggini non ne fa ed ecco perché investiamo con tranquillità in campagne marketing proprio perché poi sappiamo che le persone che rappresentano il nostro brand sono persone in gamba e oltre a ciò uno potrebbe investire come singolo ma che efficacia può avere Ludovico Cianchetta che fa la sua ads insomma vale molto poco devo essere onesto ci abbiamo provato i risultati sono stati fallimentari mentre fare pubblicità con un brand istituzionale come questo permette di ottenere molti più contatti di persone molto più profilate quindi molto più convinte e questo permette poi a parità di spesa di incassare molto di più tant'è che spesso poi mi hanno chiesto negli ultimi mesi Ludovico ma se voglio fare campagne marketing tu me le puoi vendere sì potrei anche vendergliele come B&B Academy ma ho preferito non farlo perché ho visto che i risultati non sono stati soddisfacenti mentre farlo come Rental Pro ha molto più senso ma non finisce qua perché ci siamo evoluti e successivamente abbiamo introdotto i digital walls infatti Rental Pro può accedere ad un aggregato di oltre 13.000 baccheche digitali che adesso vi faccio vedere posizionate nei migliori condomini in tutta Italia per un totale circa di 700.000 inquilini che vivono in questi condomini adesso capirete di più infatti grazie a queste baccheche Rental Pro è in grado di acquisire i contatti di proprietari immobiliari altamente profilati perché io posso dire voglio che le mie pubblicità arrivino nel condominio di City Life a Milano e io so che chi vive a City Life a Milano è per definizione una persona con una fascia di reddito più importante quindi sono sicuro che le mie campagne marketing non vengano viste da persone che vivono magari in estrema periferia con fasce di reddito basse e che è molto improbabile che abbiano un secondo immobile ma vengono viste solo ed esclusivamente da persone in vie quindi prendo una città prendo una via e in condomini che decido io e queste sono le baccheche digitali nelle quali compaiono le pubblicità di Rental Pro sono dei tablet veri e propri enormi che sono presenti in determinati condomini sparsi in Italia noi come Rental Pro abbiamo la lista di tutti i condomini aggiornata in tempo in tempo reale e compaiono queste pubblicità dove se una persona poi clicca perché quello che vede è interessante e si apre un QR code che una volta inquadrato permette di inviare i suoi dati e l'affiliato Rental Pro della zona riceve i dati contatta e poi chiede hai un immobile possiamo gestirlo eccetera eccetera è un'innovazione incredibile per la quale praticamente abbiamo l'esclusiva nel senso nessun altro livello di affitti brevi può fare marketing su queste baccheche ed infine abbiamo una strategia social sempre in ottica di far conoscere il brand e portare agli affiliati un numero sempre più crescente di proprietà Rental Pro ha sviluppato una strategia di crescita virale per i canali social grazie a questa strategia studiata ad hoc da me con l'aiuto di uno dei più famosi imprenditori a livello internazionale si chiama Imangazzi magari lo conoscerete ho partecipato ad un suo evento a Dubai incredibile dove abbiamo parlato di come poter rendere virale un tipo di come dire società come questo come far conoscere il prodotto a tante persone lui ci ha spiegato come ha reso il suo brand il brand numero uno al mondo e abbiamo applicato la stessa strategia registrando un videocorso esclusivo solo per gli affiliati Rental Pro disponibile gratuitamente grazie al quale ognuno di loro può creare contenuti su Instagram in maniera 100% organica quindi senza spendere soldi in advertising eccetera 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 per acquisire immobili abbiamo lanciato questo videocorso gratuitamente solo per gli affiliati qualche mese fa gli affiliati hanno iniziato ad applicare ciò che viene spiegato e nell'ultima live c'è stato confermato che sono stati acquisiti già i primi immobili grazie ad Instagram senza spendere un euro in pubblicità e questo è molto importante perché se vi immaginate che ogni affiliato Rental Pro fa un semplice contenuto al giorno gli affiliati Rental Pro sono più di 100 a fine mese significa letteralmente migliaia di contenuti buttati tra virgolette sui social col mero fine di acquisire proprietà la cosa che abbiamo notato è che poi spesso gli affiliati ricevono proprietà in zone diverse anche da quelle dove vivono e ancora una volta grazie alla collaborazione magari l'affiliato del Piemonte che ha ricevuto un contatto per la Valle d'Aosta può condividerlo e comunque monetizzare una casa che altrimenti avrebbe buttato nel water e come se non finisse queste sono le tre metodologie che ci permettono di acquisire molti numeri di telefono di proprietari interessati e di conseguenza case abbiamo detto noi possiamo avere tutti i numeri di telefono del mondo ma se la gente non è il numero uno a convincere i proprietari non è il numero uno a negoziare non è il numero uno nel creare magari un piccolo business plan perché non sa utilizzare Excel eccetera 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 abbiamo deciso di regalare praticamente tutti i percorsi formativi da noi realizzati public speaking marketing social media management e tanto altro ancora a tutti i nostri affiliati rental pro alcuni corsi sono corsi che sono disponibili a pagamento per tutti gli altri alcuni corsi sono esclusivi cioè al di fuori di rental pro non possono neanche essere acquistati come ad esempio il corso di patrimonio relazionale che rilasceremo durante questo mese che è un corso che spiega come sfruttare tutta una serie di questioni legate al brand per differenziarsi ancora una volta dal singolo property manager quindi non solo chiunque entra in rental pro ha accesso a bmb academy se già avete accesso bene ma se non lo avete lo avete incluso oltre a questo ci sono oltre dieci percorsi formativi gratis che trovate dentro rental pro e da qui a fine anno ovviamente ne verranno aggiunti ancora a brevissimo smetto di parlare io e lascio parlare voi non vi preoccupate detto ciò il network rental pro è secondo me la cosa più importante di tutte perché come dicevo prima potete avere tutta la formazione ma non avete il brand potete avere il brand ma non avete la formazione il fatto di essere all'interno di un network che si riunisce spesso con videochiamate come queste è fondamentale perché ci sta che uno abbia una domanda ci sta che qualcuno voglia saperne di più ci sta che qualcuno voglia condividere anche i suoi successi infatti la parte più bella secondo me è quando poi arrivano gli affiliati dopo aver risposto a tutte le domande quando facciamo le nostre live che raccontano io ho acquisito dieci case io ho acquisito questa villa io ho acquisito questa questa baita in montagna ed è molto motivazionale perché poi uno non si limita a dire guarda quanto sono figo che ho acquisito queste case ma diventa anche un le ho acquisite grazie ai video che ho fatto su Instagram le ho acquisite grazie alla pubblicità che Rental Pro ha fatto per me le ho acquisite collaborando con quest'altro affiliato quindi anche molto motivazionale e utile a capire anche come effettivamente poi uno nello specifico può migliorare il proprio business di affitti brevi o può approcciare questo business di affitti brevi tutte queste chiamate sono registrate quindi non potrebbe dire caspita io entro oggi cos'è 6 di maggio 2024 mi perdo le decine decine di live precedenti assolutamente no tutte le live sono registrate e dopo che entrate potrete rivedervi anche tutte le live passate oltre a partecipare gratuitamente a tutte quelle future e ancora una volta la cosa bella è che le live non sono necessariamente tenute da me abbiamo avuto come ospite oreste gramigna ad esempio che ha portato la sua esperienza ventennale nel settore immobiliare abbiamo avuto altri affiliati rental pro avremo altri ospiti insomma non è un monologo rental pro non è bmb academy rental pro è una società formata da diversi soci da tanti professionisti e che ha l'obiettivo di portare sempre i numeri uno di un determinato settore a portare la loro esperienza e ad insegnare qualcosa anche io spesso ho imparato tanto partecipando a delle live non tenute da me questo è diciamo una rappresentazione di live che spesso realizziamo quindi sono delle vere e proprie videochiamate dove tutti hanno la possibilità di parlare fare domande eccetera eccetera delle volte siamo in tantissimi delle volte siamo in meno però noi le cerchiamo di fare con frequenza e con largo anticipo di maniera tale che siano presenti quante più persone e se quella sera non ci potete essere comunque sono sempre registrate abbiamo anche assunto dei nuovi coach tra cui Simone che vi abbiamo presentato prima dei veri e propri mentori con anni di esperienza centinaia di acquisizioni alle spalle che supportano gli affiliati quotidianamente perché oltre alle live abbiamo una community telegram attivissima dove questi coach possono offrirvi assistenza e oltre a ciò poi abbiamo anche dei ticket chiaramente privati interni dove potete comunicare direttamente con lo staff di rental pro se avete cose delicate numeri o avete tra le mani degli affari molto grossi ovviamente potete parlare anche privatamente con noi di rental pro e un'altra cosa molto bella sempre in ottica di forza del network è che capita che delle volte ci siano delle opportunità in sublocazione da poter acquisire ma l'importo magari non è alla portata dell'affiliato e allora con una volta si scrive dentro rental pro ragazzi ho un immobile in sublocazione a Firenze però mi mancano i fondi inutile dirvi che ovviamente tra più di cento affiliati rental pro i fondi si trovano in un batter d'occhio quindi anche per trovare finanziamenti per acquisire proprietà in sublocazione che magari dovreste buttare via le quali dovreste rinunciare ovviamente rental pro è utile anche a ciò non finisce qui però perché per tutelare tutti gli sforzi che facciamo noi che fanno gli affiliati ad esempio tutti gli affiliati devono avere un comportamento professionale ed impeccabile nei confronti dei clienti e degli ospiti ciò significa che se un affiliato non si comporta bene riceve un richiamo formale dopodiché se un eventuale comportamento si protrae per più di una volta o comunque a lungo nel tempo l'affiliato viene cacciato questo perché perché noi dobbiamo tutelare chiaramente tutti quelli che investono il loro tempo il loro denaro in questo business e non possiamo permetterci che nessuno rovini l'immagine di rental pro ed ecco perché ci teniamo a precisare che chiunque entra in rental pro deve comunque essere sempre professionale non ammettiamo cioè attenzione non è che dovete andare in giro in giacca e cravatta non gliene frega a niente a nessuno di come andate in giro vestiti anzi siamo noi che nel kit diciamo di benvenuto vi diamo anche una polo e una felpa rental pro quindi potete tranquillamente vestirvi come volete però non potete andare a bestemmiare dietro ai proprietari di casa o mandare a cagare i proprietari dei b&b perché comunque riconoscono il fatto che siete parte di rental pro ed è successo che delle persone ci venissero a dire proprietari o ospiti di b&b mi sono trovato male con questo affiliato abbiamo chiaramente analizzato la situazione fortunatamente mai nulla di grave però la cosa bella è che ci ha fatto capire che sia gli ospiti dei b&b che i proprietari di casa riconoscono rental pro come un brand importante perché ci sono venuti a scrivere guardate che con questo affiliato è successa questa cosa qui e questo ci ha fatto riflettere infatti poi parte del quality control sta anche nel controllare gli annunci che vengono pubblicati aiutiamo tutti gli affiliati a migliorare i loro annunci laddove sia necessario un titolo più accattivante una descrizione migliore una disposizione delle immagini diversa e tutti gli affiliati di rental pro possono anche utilizzare una targhetta digitale da inserire all'interno degli annunci per mostrare a eventuali ospiti che vogliono soggiornare è che questo immobile è certificato da rental pro e questo aumenta anche poi chiaramente il quantitativo di prenotazioni che un annuncio riceve perché prendere un annuncio normale o prendere un annuncio certificato da rental pro società svizzera eccetera 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 chiaramente un ospite preferisce un immobile che è certificato da una società svizzera piuttosto che un immobile qualunque quindi non solo benefici nell'acquisire immobili ma anche benefici nell'ottenere più prenotazioni e ad un prezzo più alto inutile dirvi che io cerco di soggiornare adesso solo in immobili certificati da rental pro quando viaggio in città dove sono presenti i nostri immobili faccio anche un po' diciamo da mystery shopper vado lì e vedo se la qualità effettivamente è adeguata però rental pro non impone agli affiliati alcuna modalità di lavoro nessuno gli interessa se lavorate dalle 8 alle 15 non ci sono orari non c'è niente potete lavorare in property management potete lavorare in sublocazione non avete nessun tipo di vincolo non siete dipendenti continuate ad essere capi di voi stessi piccoli imprenditori la tua azienda resterà per sempre tua cioè tutti gli immobili che tu acquisisci li firmi col tuo nome e cognome con la tua partita IVA con la tua SRL cioè prendiamo l'esempio di Francesco Crema affiliato rental pro quando va a firmare il contratto il proprietario di casa firma con Francesco Crema affiliato rental pro ma la società rental pro non firma il contratto col proprietario ciò significa che comunque la casa è vostra è legata a voi alla vostra partita IVA alla vostra SRL quindi se un domani volete vendere la vostra SRL che possiede 25 immobili più l'affiliazione a rental pro potete farlo perché gli immobili sono comunque intestati a voi potete scegliere che channel manager utilizzare potete scegliere se fare il self check in se non farlo se pubblicarla solo su Airbnb solo su Booking massima flessibilità e potete ovviamente anche collaborare con chi volete non siete obbligati a collaborare con affiliati rental pro chiaramente consigliato perché sono persone che hanno i vostri stessi obiettivi la vostra stessa fame e che hanno preso anche gli stessi impegni etici e morali però potete lavorare con chi volete anche con vostra nonna l'importante è che manteniate sempre uno standard qualitativo in breve rental pro ti garantisce tantissimi vantaggi con tutta l'autonomia di cui hai bisogno per restare libero ed indipendente ma al contempo è un network esclusivo perché come tutti i grandi franchising anche l'accesso a rental pro è condizionato ad una valutazione del candidato quindi non è che chiunque può entrare ad esempio ci hanno chiesto di entrare persone che volevano vendere le bollette luce gas tipo catene di Sant'Antonio e abbiamo detto no grazie cioè se devi entrare in rental pro per vendere il tuo network marketing non siamo interessati anche se ci vuoi riempire di soldi abbiamo ricevuto offerte incredibili gente che voleva pagare un sacco pur di pubblicizzare queste cose noi abbiamo detto no grazie non c'è cifra che possa comprare la nostra credibilità quindi ricordatevi che se entrate in rental pro è per fare business di affitti brevi no network marketing no crypto no nient'altro cioè per i cavoli vostri potete fare quello che volete ma entrare in rental pro per tartassare gli affiliati dicendogli ehi compra le mie barrette proteiche per dimagrire di 50 kg no affiliati al mio network di elettricità per pagare le bollette zero euro no dimenticatevi queste cose siamo qui per fare soldi con gli affitti brevi e oltre a questo se rental pro ad esempio ha già una presenza importante in una piccola città dove non ha senso avere tanti affiliati ovviamente non verranno accettate affiliazioni nella stessa area questa valutazione non fatela voi cioè non è che andate in una città e vedete ah vedo già cinque affiliati non mi candidano se siete interessati candidatevi poi saremo noi ad analizzare la vostra candidatura e questo vincolo è importante e ci aiuta a garantire un supporto di alta qualità devo essere onesto subito dopo l'apertura del primo punto vendita di Roma in virtù del grande rumore diciamo che ha generato questa inaugurazione abbiamo subito dopo ricevuto una proposta per aprire un altro punto vendita a Roma ma era molto vicino al primo letteralmente tipo un chilometro e mezzo e abbiamo rifiutato benché questa persona avrebbe pagato per entrare in rental pro avrebbe investito in un ulteriore punto vendita abbiamo deciso di rifiutare quindi ovviamente nostro interesse è tutelare gli affiliati e far sì che non entrino in competizione tra di loro ma che piuttosto collaborino dunque tutto ciò cosa può significare per te beh se oggi hai la possibilità di accedere al network potresti non avere la stessa fortuna nei prossimi mesi e anni perché magari oggi nella tua città c'è disponibilità tra sei mesi non c'è più questa disponibilità quindi se sei interessato ti conviene quindi esprimere il tuo interesse oggi e anche in fase di vendita come spiegavo prima per i ragazzi di Roma se deciderai di vendere la tua attività o la tua società in futuro potrai cedere anche il contratto di affiliazione cioè un domani tu puoi dire io non sono sono affiliato rental pro e ho 25 proprietà ma sono anche il detentore del primo punto su Roma sono il detentore dell'unico punto in tutta la Liguria e questa cosa cresce di tantissimo il valore perché come vi ho detto prima quando i ragazzi di rental pro hanno aperto l'ufficio su Milano quella roba valeva zero perché non aveva storico oggi con meno di un anno di storico invece quella roba lì vale già un sacco di soldi perché hanno già centinaia di clienti in lista decine di immobili e tanto altro ancora quindi quella roba ad oggi vale tantissimo non so dirvi se vale 150.000 euro o 300.000 ma vi posso assicurare che quella cosa vale e non poco quindi entrando in rental pro mette anche la possibilità di rivendere eventualmente il vostro contratto di affiliazione ed infine tutto il network rental pro può godere del supporto legale dell'avvocato Davide Orto e di tutto il suo team di diritto di impresa infatti l'avvocato Orto che vedete qui oltre ad essere un rinomato avvocato in Italia e Svizzera è anche uno dei soci fondatori di rental pro questo l'abbiamo fatto sia per dare un'immagine di serietà che per garantire che tutto quanto all'interno di rental pro venga fatto con la massima serietà e con un avvocato come socio è impossibile sbagliare questo poi include anche appunto delle consulenze dal punto di vista legale con il nostro avvocato e il suo team e vi ricordo ancora una volta che un brand forte solido come quello di rental pro vale molto di più di un logo fatto su Canva questo permette di trasmettere un'immagine di azienda stabile ed affidabile e rental pro nell'ultimo anno ha lavorato tantissimo per fare ciò e se voi voleste replicare la stessa cosa ci mettereste probabilmente almeno dieci anni e probabilmente non avreste lo stesso risultato tutti gli affiliati infatti ricevono tutto il materiale di marketing di cui hanno bisogno e il tutto coordinato a livello di immagine anche solo prendere un grafico che vi studi tutto una brand identity i colori istituzionali vi crei tutte queste grafiche eccetera 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 meglio che non ci pensiate nemmeno ad oggi rental pro ha oltre 500 immobili gestiti tra quelli già avviati e quelli che sono in fase di avviamento in tutta Europa Svizzera Spagna Francia Portogallo Germania e inutile dirvi che abbiamo fatturato grazie a tutti questi immobili oltre 20 milioni di euro a livello di gruppo in solo un anno quindi cifre veramente incredibili il team dei fondatori è composto da Flavio Besutti che alcuni di voi magari conosceranno è un imprenditore seriale con all'attivo 5 società principalmente nel settore immobiliare nel quale ha un'esperienza decennale fa il property manager dal 2019 grazie a Bambi Academy ma è anche agente immobiliare e ha anche altre società appunto in ambito immobiliare ci sono io property manager con oltre 100 proprietà in gestione founder della prima accademia in Europa sugli affitti brevi e di un software che sta rivoluzionando sempre il settore degli affitti brevi che è Badly Go Davide Orto avvocato tributarista a livello internazionale come dicevo ed è anche investitore immobiliare quindi mastica e poi c'è Francesco Crema mio socio storico attivo nel digital da oltre 7 anni esperto di sviluppo di business tramite il marketing online quindi abbiamo cercato di diversificare anche a livello di founder e prendere persone esperte nel loro settore Flavia ha un'esperienza incredibile molto più grande di me Francesco è super esperto sul digital Davide Orto oltre ad avere un network incredibile è un avvocato molto rinomato e questo ancora una volta garantisce serietà e garantisce che tutto venga fatto nel pieno rispetto delle regole e inutile dirvi con grande professionalità oltre a questo abbiamo un team ovviamente di tante altre persone che non sto qui a presentarvi se no finiamo domani però sicuramente avete dei grandi motivi per entrare oggi perché rental pro ha vissuto un anno di forte espansione abbiamo portato in un anno tantissime novità non c'era scritto da nessuna parte dovevamo regalare tutte queste cose tutti questi corsi di formazione investire così tanti soldi ma l'abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo vogliamo far crescere il network e oggi riapriamo per un periodo di tempo fortemente limitato le porte per l'iscrizione di nuovi affiliati con due grandi sorprese se già tutto quello che avete visto è una grandissima opportunità per scalare o iniziare il vostro business di affitti brevi abbiamo deciso di inserire due novità esclusive innanzitutto potrete iscrivervi a rental pro solo sino al 19 maggio quindi questo è il termine ultimo e se sei interessato a costruire il tuo business di affitti brevi con un brand forte e solido con un sistema di generazione di contatti di proprietari interessati automatico con formazione esclusiva e un supporto dedicato beh inutile dirti che questa è la tua occasione e non finisce qui perché ci sono anche altri benefit esclusivi per chi decide di entrare in rental pro oggi come dicevo prima quindi tutto quello che abbiamo visto è garantito e lì non ve lo può togliere nessuno innanzitutto avrete un evento un ticket per accedere gratuitamente all'evento esclusivo che si terrà a Milano il 25 maggio ovvero l'inaugurazione della nuova boutique immobiliare quindi entrando in rental pro oggi vi garantite la possibilità di partecipare a questo evento in maniera 100% gratuita sarà un evento chiuso al pubblico quindi potrà venire chiunque ciao entro ci saranno dei biglietti sono numerati con un QR code quindi l'unico modo è essere invitati da noi e questo è il modo per accedere se non siete già affiliati in rental pro saranno presenti ovviamente i founder di rental pro tanti affiliati da tutta Europa e avrete la possibilità di conoscere tante altre persone molto interessanti di persona e tutti i nuovi affiliati parteciperanno ad un aperitivo chiamiamolo così pre-evento dove ci saremo solo noi quindi se tu che stai guardando questa live ti affiglierai avrai prima ancora di questo evento un ulteriore evento con ancora meno persone nella quale nel quale avrai la possibilità di parlare con me altri affiliati fare domande conoscerci eccetera 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 quindi già questa è una grandissima opportunità alla quale sarai invitato automaticamente se deciderai di affiliarti a rental pro ma non finisce qui perché abbiamo deciso di indire un piccolo contest ed è veramente esclusivo un qualcosa al quale probabilmente la maggior parte di voi non ha neanche mai potuto pensare in vita propria ed è la possibilità di essere estratti per un viaggio verso una location segreta a bordo di un aereo privato con me e altri affiliati rental pro quindi abbiamo già prenotato un aereo privato per fare un viaggio non è un viaggio di una settimana sono onesto con voi è una cosa in giornata che però si fa andate e ritorno con un aereo privato in una località molto esclusiva si partirà dal nord Italia probabilmente da Milano o Lugano e andremo a fare un viaggio e torneremo andate e ritorno in aereo privato ci sarò io e ci saranno altri affiliati rental pro che verranno accuratamente selezionati infatti faremo contestualmente un contest all'interno dei già affiliati rental pro e selezioneremo alcuni affiliati tra quelli che si sono distinti quindi faremo diciamo un mix di nuovi affiliati e affiliati che sono già dentro da tempo che si sono appunto distinti nell'ultimo anno e faremo questo viaggio assieme vi basti pensare poi qui non abbiamo incluso tutto quanto che a ottobre 2023 due affiliati rental pro sono venuti tutti spesati da noi a casa mia abbiamo fatto delle esperienze incredibili volo pagato un b&b pazzesco incredibile pagato autista ristoranti incredibili abbiamo fatto delle esperienze molto fighe massaggiatrici tutto quanto e perché abbiamo selezionato questi due affiliati perché sono stati gli affiliati che hanno fatturato di più quindi abbiamo voluto indire un contest motivazionale per come dire motivare le persone a dare il loro meglio perché se tu dai il tuo meglio rental pro lo vede lo riconosce viene invitato e viene invitato a degli eventi quindi questa cosa di jet privati massaggi eventi eccetera è un po' la prassi diciamo per noi a livello di marketing funziona anche molto bene ma soprattutto a livello motivazionale per gli affiliati funziona e poi stiamo pianificando da un po' la convention annuale di rental pro di cui non abbiamo parlato nel webinar però una volta all'anno ci vedremo in delle location sempre diverse per conoscerci tutti quanti tra noi quindi poi ci sono delle vere e proprie convention annuali di rental pro quindi se vuoi avviare il tuo business di affitti brevi nel migliore dei modi e mettere il turbo o sei già in questo settore e vuoi scalare questo business accedendo a strumenti utilissimi per scalare sfruttando un brand internazionale come se fosse tuo senza doverti preoccupare di gestire la pagina instagram il sito web le campagne facebook ed impazzire perché è un lavoro a parte partendo da un livello altissimo anche se non hai mai fatto affitti brevi sino ad oggi e vuoi anche conoscermi di persona all'evento di milano e provare a partecipare all'estrazione di un viaggio in jet privato con altri imprenditori inutile dirti che questa è la tua occasione di entrare in rental pro che include veramente tantissime cose sarebbe impossibile elencare tutto quanto contattaci per accedere adesso verrà lasciato un link qui via chat verrà inviato via mail su instagram chi più ne ha più ne metta se siete poi già in contatto con qualcuno del team di bambi academy come matteo max o luca potete ovviamente contattare anche loro la presentazione è finita adesso mi date un secondo che bevo un po' d'acqua se no muoio e rispondo alle vostre domande vi ricordo che avete tempo entro il 19 maggio adesso interrompo la condivisione schermo e arrivo subito da voi per rispondere alle vostre domande vedo che la chat è esplosa quindi vi chiedo di rifare le domande a partire da adesso perché è impossibile recuperare centinaia di di messaggi bevo un po' d'acqua e arrivo da voi attivate l'audio se volete parlare se volete scrivere scrivete siete benvenuti in entrambi i casi ciao ludico posso chiederti fate per alzata di mano se potete adesso ti faccio parlare però se andate su zoom c'è scritto reazioni e c'è mi sembra la possibilità di alzare la mano come ha fatto l'esempio ipad di luca se proprio non riuscite niente alzate la mano non so visivamente o smutatevi però se potete utilizzare questa funzione riusciamo a parlare tutti quanti in maniera migliore quindi non so se chi stava parlando è tale luca vabbè prosegui pure poi passiamo a luca e agli altri che stanno alzando la mano ciao sono giacomo volevo chiederti per quanto riguarda diciamo questa cosa qui io mi trovo in Thailandia è possibile iniziare a fare questo business anche in Thailandia oppure è una cosa consigliata soltanto per l'Italia e l'Europa allora devo essere onesto con te contro il mio interesse ad oggi il brand rental pro non è ovviamente conosciuto in Thailandia e non pianifichiamo nel come dire nel breve futuro di approdare in quel mercato ora hai due strategie o lasci stare il brand rental pro entri come property manager normale bambi academy abbiamo studenti da tutto il mondo Thailandia compresa però ti viene meno diciamo tutta quella parte di branding oppure un'altra strategia può essere quella di entri comunque al rental pro quindi hai il tuo profilo sul sito web di rental pro il sito web di rental pro è disponibile anche in lingua inglese buona parte dei materiali sono tradotti possiamo eventualmente produrre dei materiali in lingua inglese quindi tutte le brochure che ti mandiamo a casa tutti i bigliettini da visita possiamo farle in lingua inglese basta saperlo prima di produrli perché per ogni affiliato produciamo un set di materiali di marketing chiaramente magari le campagne di advertising possiamo provare a farle in lingua inglese per la zona non avranno la stessa efficacia però comunque tu ti puoi presentare come affiliato rental pro un network importantissimo in Europa che contesta prodando in Thailandia quindi comunque con un po' di creatività si può fare magari possiamo contrattare una fee di ingresso minore in virtù del fatto che non potrei soffrire del 100% dei servizi ma comunque potrebbe essere l'inizio di una grande avventura diciamo che una cosa simile è successa con gli affiliati ad esempio in Spagna inizialmente non avevamo deciso di partire subito con la Spagna ma diversi affiliati ce l'hanno chiesto e quindi in realtà poi siamo entrati in quel mercato proprio grazie agli affiliati quindi può essere in realtà l'inizio di un'avventura assieme ok grazie mille per qualsiasi domanda comunque poi per fare una chiacchierata un po' più esaustiva anche con Flavio che è il nostro CEO contattaci e se poi appunto dopo aver parlato con il nostro team reputi interessante il tutto a livello di offerta possiamo approfondire assolutamente sicuramente ti ringrazio moltissimo e buona serata grazie altrettanto iPad di Luca prego Paolo D'Odorico buonasera a tutti io ho ascoltato tutto quanto bene una domanda mi sorge nel senso ad oggi io parto dal nulla ecco premessa sono un dipendente di un'azienda di termo idraulico quindi non ne so niente di immobili a stiti brevi ok e la mia domanda la mia domanda nasce come ad oggi io mi iscrivo a Rental Pro giusto? sì dopo di che come funziona cioè il tutto come nasce cioè io ad oggi anche non avessi una base per investire acquisire degli immobili come posso partire ovviamente da zero ripeto che non ho mai fatto una cosa del genere ecco allora la base è la formazione quindi noi ti diamo tutta una serie di corsi di formazione incluso B&B Academy che è il percorso più venduto d'Europa più tutta una serie di corsi extra che ti permettono di comunque arrivare preparato di fronte ad un eventuale proprietario di casa come pubblicare un annuncio quali sono le leve quindi hai tutta la formazione di quelle centinaia di casi studio di cui abbiamo parlato ad inizio webinar più diciamo come se fossero dei blocchi più un turbo che ti permette di perseguire quello che magari hanno perseguito tutte quelle persone in anni ma in un lasso di tempo più breve più facilitato con un turbo come dirti non solo ti do una bellissima macchina una Ferrari ma ti metto anche il turbo la migliore benzina le migliori gomme e un corso da pilota per sfruttare quest'auto nel migliore dei modi io ho una Ferrari nessuno mi ha insegnato a guidarla penso di saperla guidare bene ma quando poi effettivamente sono andato a fare un corso da pilota ho capito le reali potenzialità dell'auto quindi in maniera totalmente onesta è ovvio che voi potete entrare in questo business anche senza rental pro e ottenere dei risultati importanti lo dico contro il mio interesse però sicuramente se uno ha la possibilità di utilizzare questo grande facilitatore e acceleratore ne vale ampiamente la pena perché ad oggi anche lì ad esempio aprire uno spazio fisico di affitti brevi con un brand sconosciuto che vai su Google e c'è un sitarello fatto con i piedi secondo me lascia un po' il tempo che trova per farvi un esempio di quanto rende sensate determinate cose ho capito no no più che altro era questa mia domanda che non avendo mai fatto nulla cioè mi trovo un po' così sospeso in aria ecco non sapere che cosa come muovermi ecco certo comunque il mio consiglio per tutti coloro che magari sono indecise di contattare il nostro team perché non sono lì per vendervi no ma per fare delle chiamate anche videochiamate guardarsi in faccia capire assieme possono aprirvi i nostri software per la ricerca di mercato magari tu di che zona sei Luca? io sono di Torino perfetto quindi ti può mettere con una persona del nostro team ti apre il nostro software per la ricerca di mercato e assieme vi mettete a vedere ah guarda Torino i prezzi medi sono questi quindi ad esempio si potrebbe acquisire in questa zona tu Luca sei in una zona più periferica più centrale quindi fare dei ragionamenti assieme perché non è detto che necessariamente Rental Pro faccia il caso vostro cioè noi fare entrare una persona che poi acquisisce una casa all'anno per noi è totalmente inutile perché abbiamo tenuto bloccato un posto a Torino per una persona che invece aveva un obiettivo molto meno ambizioso facilmente perseguibile con il semplice corso mentre se le persone sono motivate vogliono raggiungere non so dieci casi all'anno scalare questo business ottenere molto di più allora siamo ben contenti di farvi entrare in Rental Pro va bene ti ringrazio un'ultima cosa da quello che ho capito che comunque l'entrata in Rental Pro ha un costo comunque è un corso che ti forma e tutto quanto per i prezzi vi chiedo di contattare ancora una volta il team perché chiaramente varia al variare di tutta una serie di ipotesi che ci sono quindi non esiste un prezzo univoco dipende da una serie di fattori quindi contattate il team non è ecco ci tengo a dire non è un investimento da 2000-3000 euro neanche un investimento da più di 10.000 euro è un range comunque di investimento importante ma per chi vuole entrare in questo business se volesse farsi il sito web le campagne marketing spenderebbe come minimo tre volte tanto quindi è un range sicuramente non bassissimo ma non esiste ad oggi un franchising che dà tutto questo al prezzo basso che diamo noi questo c'è possibile perché buona parte delle cose che offriamo le offriamo già come azienda B&B Academy e quindi abbiamo dei margini per fare un prezzo competitivo altrimenti domani voi voleste fare un franchising di affitti brevi dovete pagare qualcuno che vi faccia il sito web dovete pagare qualcuno che vi faccia il corso di formazione e alla fine se si prendono le voci singolarmente il valore di rental pro è infinito beh certo grazie molto sei stato gentilissimo ti auguro una buona sera grazie a te altrettanto ripeto quindi domande sul prezzo contattate al team nei link che ci sono qua che manderemo via mail su instagram e chi più ne ha più ne metta rispondo prima do priorità a quelli che stanno alzando la mano e poi rispondo in chat xiaomi2312 eccetera spero questo non sia il tuo nome sì massimo ciao massimo sì due domande poi siamo sentiti anche su instagram per la mentorship ottimo allora due domande una personale e l'altra familiare però concrete ora la mia personale è che differenza c'è tra o cosa o cosa consigli tra i due tra il flipping immobiliare di real estate quindi rispetto a fare l'affitto a brevetti questa è la mia personale questa è la mia personale l'altra familiare casa da 30 metri quadri aspetta una alla volta se no già mi perdo anche se non sono proprio in target ti rispondo rapidamente il flipping immobiliare ha bisogno di capitali devi comprare sistemare rivendere affitto breve puoi permetterti di guadagnare anche senza investire quindi per me tutta la vita affitto breve tra l'altro casvalidità vuole che due persone a me molto care recentemente hanno cercato di fare operazioni così stamattina è uscita una notizia che la società che aveva preso questo stabile che doveva ristrutturare eccetera Milano è fallita quindi adesso probabilmente ci vorranno dai 3 ai 5 anni per recuperare i soldi 180 mila euro che erano stati messi come anticipo su questa casa è un'altra del mio socio Francesco zona Bergamo anche lì ha messo 100 mila euro per iniziare è andato a vedere l'altro giorno ancora non hanno messo un mattone ed è passato un anno quindi il flipping immobiliare non solo devi mettere soldi ma devi pure sperare che quella che ti deve ristrutturare anche mio amico Ruzza doveva ristrutturare casa sua quello lì li fa due mesi barra tre ed è scappato con 60 mila euro di anticipo per ristrutturare la casa quindi comunque oltre ad avere soldi devi pure sperare di avere a che fare con gente seria quindi per me affitto breve tutta la vita seconda domanda bene di più seconda che la seconda invece è familiare allora casa 30 metri quadri metro a Milano in periferia non in centro 30 metri quadri va su booking non su Airbnb perché ha delle limitazioni Airbnb evidentemente non la seguo io 100 euro a notte con appunto il sistema del tuo branding mi renderebbe di più di 100 euro a notte quindi 30 metri una stanza un bagno allora chiunque ti dà una valutazione sulla base di questi dati è un ciarlatano dovrai vedere la casa le immagini eccetera eccetera statisticamente un annuncio anche solo con la targhetta digitale di certificazione rental pro ti dà di più ma magari ti potrebbe dare magari ti dà un 5% in più ma magari sistemando il tutto seguendo la nostra formazione quindi rifai le foto in un determinato modo scrivi il titolo in un altro modo magari ti dà un ulteriore 20% in più però ad oggi non posso dirti entra in rental pro per migliorare quel singolo immobile entra in rental pro per migliorare quell'immobile e acquisirne tanti altri così ha senso entrare in rental pro se devi semplicemente migliorare quella casa lì allora studia TB&B Academy e migliora l'annuncio però sono due cose diverse cioè dipende se tu vuoi rimanere con una casa o se ambisci ad averne tante altre no 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 l'ho fatto è per mio fratello a Milano ma comunque ho mandato nel link il suo numero quindi verrà contato domani poi deciderlo ok ottimo perfetto grazie bene in bocca al lupo allora grazie Elisa 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 dai togliere il muto eh sennò non ti sento si è addormentata Elisa vabbè fino a che non resuscita Elisa passiamo a Jenny ciao ragazzi vedo il labiale ma non vi sento no seleziona il microfono magari qua in basso e non vi vedo neanche più ok fino a che Jenny non resuscita passerei a Guido Guido Paolo De Felice ciao Ludo buonasera buonasera eh niente ti volevo allora io stavo già ammolestando Luca su Whatsapp quindi già ho l'altro prezzo non fa niente domande perché ne sto parlando con lui quindi siamo a post ti volevo chiedere una cosa siccome io io ho fatto già il corso B&B Academy a fine maggio inizio la mentorship lo vedi come una combo ottimale entrambe le cose cioè nel senso considerando appunto il partire da zero ma con tanta motivazione tanta eh come dicevo prima è un acceleratore ovviamente tu calcola che buona parte degli affiliati rental pro che sono entrati a lancio erano studenti B&B Academy eh non tutti devo essere onesto tanta gente non era studente B&B Academy ma più della metà erano studenti B&B Academy Simone stesso era studente B&B Academy è entrato in rental pro che aveva già più di 50 case e comunque ha aumentato il suo portfoglio Patrick stesso nella testimonianza lo dice io ero entrato con B&B Academy era un po' diciamo un'anima in pena girovagava non aveva ancora preso magari troppo sul serio questa cosa poi appena entrato in rental pro forse anche stimolato dall'investimento che aveva fatto dal sentirsi parte di un qualcosa di grande perché comunque c'è da andarne fieri di far parte di rental pro io lo vedo c'è gente che lo dice veramente con grande orgoglio e questa cosa poi la comunichi secondo me al proprietario no? se ci credi davvero è quello che dico io che magari insomma webinar è lungo però andare a dire io faccio parte di rental pro un network svizzero con centinaia di proprietà in tutta Europa è difficile che un proprietario non ti voglia dare un suo immobile poi ce la puoi fare anche senza rental pro assolutamente però magari ci metti più tempo è un po' più complicato quindi non siete obbligati ma è un facilitatore fare con una potenziale lista di contatti caldi cioè è già completamente diverso è un'altra storia non c'è paragone non è l'unica cosa cioè non vi dico entrate in rental pro perché le case vi cadranno dal cielo perché non vi cadranno dal cielo ma comunque è un facilitatore ecco perché poi avendo voi il vostro profilo sul sito rental pro capita spesso che uno semplicemente scopre che esiste rental pro va sul sito rental pro e dice io ho una casa a Alessandria fammi vedere qual è l'affiliato più vicino ad Alessandria quindi capita anche che uno venga contattato voi riceverete dei contatti assolutamente ma capita anche che uno venga contattato letteralmente sul suo numero di telefono così perché c'ha il numerino sul sito oppure avete chiaramente la mail chioccio la rental pro quindi riceverete anche proposte sulle vostre mail a tutti gli effetti diventate parte di un network diciamo il vantaggio rispetto all'agenzia immobiliare secondo me che comunque deve avere il patentino eccetera è proprio quello che tu oggi Patrick ha iniziato ad esempio che faceva ancora il pizzaiolo cioè non è che ha smesso di fare il pizzaiolo ha iniziato a fare questo lui in concomitanza ha iniziato a fare affitti brevi nella testimonianza lo dice l'affitto breve mi ha permesso anche di ripagare i debiti che ho avviato dal momento in cui ho aperto la pizzeria che purtroppo non è stata diciamo un grande affare dal punto di vista imprenditoriale quindi anche se ad oggi state facendo un altro business chiaro che se mi dite io faccio il militare in Afghanistan è difficile che riusciate ad avviare un business di affitti brevi ma se nel frattempo avete un altro lavoro anche già solo nel fine settimana vi mettete lì a contattare i proprietari dei numeri di telefono che avete ricevuto buttate un occhio sui siti web insomma fate tutto l'iter che c'è bisogno di fare per avviare questo questo business pur avendo un altro business è facilmente percorribile il tutto poi nel mio caso io sto lasciando il mio vecchio lavoro perché voglio dedicarmi completamente 110% a questa cosa quindi da lì il concetto di mentorship da lì tutto il resto quindi è affascinante tutto quello che è messo in piedi con RentalPro perché cioè avendo poi anche l'ora in comunicazione è figo proprio tu si vede che è tutto studiato nei minimi dettagli e c'è tanta correzione di tante esperienze di tante cose che sono successe negli anni per arrivare a generare questa cosa quindi per chi parte da zero come me capisco che c'è un enorme vantaggio incredibile della vostra esperienza di tutto quello che avete risolto nelle vostre delle vostre casistiche quindi e calcolo anche che è un è un investimento nel senso che è entrato in RentalPro all'inizio ovviamente ha avuto un prezzo di favore nel senso ovviamente era un prodotto appena lanciato valeva molto meno sul mercato oggi la società RentalPro è già una società che vale milioni di euro e nonostante ciò noi continuiamo a dare valore gratuitamente cioè chi è entrato all'inizio col prezzo più basso possibile comunque ad oggi ottiene corsi gratuiti quindi voi entrate oggi con questi benefit tra un anno avrete tutto quello di cui abbiamo parlato e ancora di più faremo un nuovo corso ad esempio adesso sembra una stupidaggine stiamo facendo un corso per insegnare i nostri affiliati ad editare i loro video direttamente dallo smartphone in maniera migliore non in semplice tagliacuci però mettere in maniera molto semplice degli effetti un po' più carini per fare dei video ancora più professionali questo è un esempio questo lo posso dire tranquillamente non è un segreto però regaliamo un corso quindi anche chi è entrato più di un anno fa si ritrova all'ennesimo corso gratuitamente a fine mese verrà rilasciato il corso di patrimonio relazionale un altro corso che avranno gratuitamente quindi chi è entrato in rental pro ha pagato la fee di ingresso che ha pagato e basta non è che poi ha ogni mese per sbloccare il corso paga 100 euro in più perché io mi sono ritrovato in community dove paga questo e a vita non dovrai pagare più nient'altro e poi ah no se lo vuoi avere prima se no devi aspettare otto mesi no qua paghi la formazione te la diamo gratuitamente chiaro che se dopo un anno non hai acquisito manco una casa non stai incassando niente come dicevo prima a noi non ci interessa averti come affiliato però se entri con la motivazione di ottenere grandi risultati sei il benvenuto va benissimo grazie mille ottimo poi chi c'è dopo aspettate che non vedo ok mani alzate Elisa devi togliere il muto chiedi di attivare audio ti ho chiesto di attivare l'audio prova a premere sul bottone se vai in basso c'è un microfonino dove puoi attivare l'audio niente allora passo a Leo nel frattempo tu provaci eh se no cerca un tutorial vai Leo buonasera a tutti ragazzi io io vi vi seguo da Bari e io sono esattamente a Polignano a mare non so chi se su alcuno di voi la conosce la gara di tuffi esatto Red Bull Cliff Tiving intanto grazie per tutto quello che hai spiegato perché è una manna dal cielo quindi ti ringrazio davvero tanto volevo intanto chiederti io chiaramente io sono un ragazzo molto ansioso quindi sono circondato da paure le mie paure sono inevitabilmente legate al fattore Polignano con i Polignanesi cosa significa e chiaramente tu sai bene che il mio paese è un paese stupendo meraviglioso però il Polignanesi a Polignano non lavora cosa voglio dire non vedono di buon occhio il Polignanese che lavora sul proprio paese paradossalmente uno della provincia o quindi di Bari stesso lavorerebbe meglio di un Polignanese stesso sul Polignano pensi che con Rental Pro si possa acquisire valore e quindi sbaragliare questa idea o questa ideologia che hanno i Polignanesi stessi perché mi piacerebbe restare sul Polignano due cose innanzitutto smonto secondo me questa dicitura perché ci sono studenti Bambi Academy che sono di Polignano a Mare e hanno acquisito Polignano a Mare quindi ti smonto questa innanzitutto questa credenza popolare perché la mia paura è questa una delle mie paure è questa secondo me infondata devo essere onesto perché ripeto feci un aperitivo l'anno scorso con gli affigliati con gli studenti Bambi Academy di Rental Pro ancora non c'era con gli studenti di Bambi Academy del luogo c'erano diverse persone che operavano in quella zona lì detto ciò comunque al di là di questo perché siamo qui per parlare di Rental Pro penso di sì perché comunque fingiamo che tutti i polignanesi abbiano questo limite mentale comunque penso di sì perché tu a quel punto non ti presenti più come scusami come Leo di Polignano Amare sono Leo il primo affiliato Rental Pro è l'unico probabilmente di Polignano Amare in realtà svizzera certificata e tutto quanto quindi comunque tu sarei anche polignanese ma rappresenti te stesso e un'azienda poi a livello comunicativo tu puoi dire anche che è Rental Pro che sta acquisendo l'immobile quello poi te lo vedi tu però lo vedo io stesso che per carità acquisisco molto bene ma recentemente mi è stato proposto l'immobile di una grandissima sciogra italiana non posso fare nome e cognome anche se ho firmato il contratto perché insomma non sarebbe molto serio nei suoi confronti però diciamo non voglio neanche saperlo tranquillo no però per dirti la cosa che mi ha colpito quando sono stato contattato da una persona lei molto vicina a me te voglio dare l'immobile a te Ludovico mi piace l'idea di affidare l'immobile a Rental Pro e lì ho detto significa che stiamo lavorando veramente bene perché uno mi dice non voglio dare a Ludovico voglio dare a Rental Pro è stato veramente una novità per me devo essere onesto perché comunque sono sempre stato abituato dove la gente cercava me tant'è che poi ho deciso anche di fare questo immobile essendo a Roma Piazza di Spagna in collaborazione con gli affiliati Rental Pro di Roma un altro immobile una villa che mi è stata ha fatto delle storie recentemente a Casorezzo vicino Malpensa io eronicamente ho detto quando mi è stata proposta ho detto ma dove Caspiterina è Casorezzo quindi un po' senza particolari diciamo aspettative l'ho messo online questa villa a Casorezzo ragazzi fa paccate di soldi perché è vicino a Malpensa e la sto facendo io in collaborazione con un affiliato Rental Pro inutile dirvi che da quando è aperto Rental Pro praticamente io non gestisco più i mobili in autonomia anche su Milano sto iniziando a collaborare benché io abbia il mio portfoglio mia madre e tutto quanto sto iniziando a collaborare con gli affiliati Rental Pro di Milano perché comunque il fatto che ci sia questo spazio fisico aiuta persino me ad acquisire con più facilità perché comunque lo spazio fisico di Milano adesso è pronto ci sarà l'inaugurazione a fine mese ma oggettivamente è già aperto ci possono andare già i proprietari mi sta permettendo di acquisire con molta più facilità anche a me che vengo riconosciuto comunque come un esperto e tutto quanto quindi io penso che soprattutto se fai un po' come ha fatto Simone l'affiliato di cui parlavamo prima riesci a crearti un piccolo monopolio cioè sono l'unico affiliato appunto Polignano a mare magari ti apre anche un piccolo spazio fisico e allora lì tu sei l'unico spazio fisico di affitti brevi a Polignano a mare e secondo me la cosa figa sarebbe esattamente quello e poi per raggiungerne una nulla ti vieta di prendere altri affiliati della tua regione e dire ragazzi volete collaborare con me io non me la sento di chiamare volete collaborare con me vi do il 20% degli immobili fate voi le chiamate con i proprietari perché io ho problemi d'ansia nulla ti vieta di fare ci sta ci sta o di aprire lo spazio fisico con loro se tu entri in rental pro e scrivi ragazzi cerco soci che vogliano anche solo finanziare entrare come soci di capitale nello spazio rental pro di Polignano a mare verrai bombardato di proposte te l'assicuro ok va bene niente e io ti ringrazio ancora per la risposta bene bocca al lupo grazie mille grazie Elisa ci riproviamo niente esce e rientra non lo so prova a uscire e rientrare Jenny ci riproviamo anche con voi ciao ci senti adesso si forte e chiaro ciao Ludovico sono qua e mi amore il Jenny allora prima di tutto bravissimo ci piace un po' tutta la tua idea ti dico abbiamo cominciato con Airbnb Academy circa abbiamo comprato un anno e mezzo fa dopo abbiamo comprato Bedrigo e l'abbiamo scelto un po' lì accantonato un po' il tutto questo mese prenderebbe il nostro primo immobile qua in Svizzera però la mia domanda era per Retail Pro specificamente e secondo te avrebbe senso un eventuale figliale dato che siamo a 5 minuti dal vostro sede legale qua a Lugano sì perché la sede legale non è una sede diciamo operativa per i proprietari è una cosa che avevamo analizzato e avevamo cercato degli affiliati con i quali diciamo avviare questa cosa poi a Lugano la maggior parte degli affiliati che abbiamo a Lugano purtroppo in quel momento non potevano e addirittura poi un'affiliata di Lugano è quella che ha aperto lo store di Milano però assolutamente sì io penso che ad oggi sia indispensabile avere a Lugano uno spazio fisico perché è un mercato incredibile lo sai meglio di me io ho aperto recentemente una società legata al mondo degli aerei privati lì a Lugano principalmente all'aeroporto di Agno e quindi anche lì adesso grazie a questa mia socia Raffaella Meledandri un network importante di persone che conosco lì a Lugano e manca secondo me proprio uno spazio fisico quindi avreste assolutamente il nostro appoggio il nostro aiuto nel farlo poi non è indispensabile lo spazio fisico è un ottimo mercato quello svizzero nel quale nel quale operare non solo Lugano anche tutte le parti di Bellinzona i vari laghi laghetti eccetera poi siete vicinissimi all'Italia quindi opportunità su como le potete prendere però uno spazio fisico secondo me farebbe veramente la differenza ti dico perché io come lavoro sono responsabile di una di un'assicurazione svizzera e mia moglie per un'altra lavoro per un'altra assicurazione perciò noi abbiamo un sacco di clienti anche che che gestiamo a livello di stabili sia Lugano sia la zona Bellinzona e anche oltre Alpi comunque allora un po' negli ultimi mesi volevamo proprio mettere la quarta la quinta e sfruttare quella cosa qua perché soprattutto adesso inizieranno dei nuovi delle nuove costruzioni qua in zona Lugano con i dintorni e volevo chiedere se c'era eventualmente la possibilità di fare un appuntamento di persona con qualcuno di voi qua a Lugano penso proprio di sì contattaci come sempre attraverso il team insomma e organizziamo assolutamente magari anche se adesso non sono le disponibilità di Flavio la persona chiave da incontrare eventualmente sarebbe Flavio che non è fisicamente a Lugano è più in zona Varese però assolutamente sì perché no contattaci come sempre soprattutto se insomma c'è interesse ad entrare a Rental Pro e la motivazione è tanta non vedo perché no anche perché ecco scusate in parte del processo di affilazione poi non è che uno fa il bonifico entro a Rental Pro tanti saluti no c'è una chiamata conoscitiva con Flavio proprio per andare poi a capire effettivamente se si è in linea con le aspettative e quant'altro quindi è assolutamente indispensabile la cosa che hai detta e ben venga questo incontro conoscitivo l'ultima domanda poi basta ma Rental Pro sarebbe settoriale nel senso se dovessimo aprire qua l'ipotetica qua filiale zona lugano comunque no se io volessi comunque rimanere anche in zona milano dato che un carissimo amico responsabile della Remax e cominciavamo comunque a vedere lì zona Duomo comunque tutta la parte centrale sarebbe fattibile o vai allora gli affiliati Rental Pro non hanno vincoli di zona ok quindi potete operare dove volete noi chiediamo di scegliere principalmente una zona principale quantomeno da mostrare sul sito perché capisci che se io metto Jenny lavora Lugano Milano Roma Firenze diventa poco credibile quindi tu hai una zona principale che compare sul tuo profilo Rental Pro e puoi scegliere tu qual è poi vuoi acquisire a Milano vuoi acquisire a Canicati sei liberissimo di farlo non c'è nessun tipo di problema a livello di uffici sì cioè se tu mi apri la sede di Lugano a meno che un altro mi dice la voglio aprire a 100 metri da te diciamo no non puoi farlo quindi quel tipo di esclusività sì ma poi sul dove vuoi operare dove vuoi acquisire dove vuoi fare le campagne marketing massima flessibilità ok grazie mille di niente Raffaele ciao buonasera buonasera intanto complimenti per per tutto quanto veramente una cosa forte devo dire ti volevo chiedere questo io ho appena comprato ho appena acquistato il corso di B&B Academy volevo sapere secondo te è prematuro eventualmente parlare di Rental Pro non avendo ancora neanche iniziato a toltare il corso perché mi è arrivato praticamente stasera i link per accedere secondo te è prematuro o qualcosa che si potrebbe comunque attivare allora non è non esiste né una risposta giusta né sbagliata dipende da te cioè Rental Pro esiste da un anno quindi posso parlare di determinate cose con una certa confidenza tanti affiliati come dicevamo prima sono entrati in Rental Pro che avevano zero case e oggi sono anche tra i migliori affiliati che abbiamo con decine di proprietà acquisite quindi può essere prematuro come non cioè non è che neanche prematuro può avere senso può non avere senso se il tuo obiettivo è voglio vivere di affitti brevi voglio scalare comunque questo business voglio avere il mio obiettivo avere tante proprietà ha senso indipendentemente da che B&B Academy ti sia arrivato non ti sia arrivato perché poi ripeto quando abbiamo lanciato Rental Pro tante persone neanche ce l'avevano B&B Academy quindi dipende tutto dagli obiettivi che ti sei prefissato se dici voglio provare con una casa vediamo come va rimani su B&B Academy se no guarda comunque io ho capito che questa è la mia strada voglio bloccare il mio spot poi non so in che città sei tu Catanzaro Catanzaro quindi sarebbe finalmente perché spesso abbiamo lead in Calabria e purtroppo dobbiamo darli a studenti B&B Academy non affiati Rental Pro perché è una delle poche zone dove siamo scoperti ecco diciamo che il tutto assume forse ancora un po' più di senso sempre con la motivazione però di voler acquisire tanti immobili cioè deve esserci la tua motivazione e poi l'opportunità l'opportunità c'è poi la risposta guarda la motivazione è un po' quella che tu dai nel webinar che iniziale di quando ti fai conoscere la motivazione è che lavorare 12-13 ore al giorno per uno stipendio mi sono un pochettino scocciato diciamo così e quindi visto che mi piace il settore è un qualcosa che già avevi in mente però non come host ma come investimento comprare una due case per poi sfruttarle come investimento sempre come fitti brevi c'era questa prospettiva ma tu mi hai fatto conoscere l'altro versante diciamo ok non quello di fare più l'investimento e spendere i miei soldi per acquistare una casa e poi darla in fitto breve ma andare a cercare il proprietario per prendere questa casa e fare io poi da host diciamo ecco questo quest'altro diciamo step in più di RentalTro mi però mi ha in cui esito ancora di più maggiormente mi piace di più diciamo ecco quello che ho notato poi in determinate zone come secondo me il tuo esempio di Catanzaro è molto simile a quello di Simone a Borghetto Santo Spirito non è questa metropoli enorme proprio perché non è la metropoli enorme e probabilmente sono molto indietro da questo punto di vista e non esiste probabilmente nessuno una vera e propria figura di professionista del property management in quella zona secondo me se ti ci metti sul serio quello che ho notato è che quelli che scalano più velocemente in assoluto sono proprio quelli che partono in questi luoghi passami il termine bruttissimo di serie B però proprio perché sono di serie B e spesso vengono snobati c'è l'opportunità più grande ok va bene innanzitutto complimenti per essere entrato in MB Academy hai fatto una scelta ottima se poi vorrai fare anche l'upgrade con Rental Pro sei sei assolutamente il benvenuto ed è una zona in cui abbiamo bisogno ti faccio una domanda un po' scomoda ma per l'upgrade c'è qualcosa di devi parlare con il team non so quando hai acquistato B&B Academy diciamo che sia stata una cosa proprio odierna o di due giorni fa sicuramente possiamo possiamo tenerne conto però contatta contatta chi ti ha fatto entrare in B&B Academy e capiamo meglio assolutamente grazie intanto io mi candido faccio la candidatura per Rental Pro ok fantastico complimenti grazie mille grazie a presto allora forse Elisa ce l'ha fatta perché ha cambiato anche il nome ciao Ludovico ciao piacere di conoscerti buonasera piacere mio allora io ho una domanda allora io al momento gestisco due appartamenti nel Ragusano in Sicilia però al momento lavoro su Roma perché gestisco tutto online allora diciamo che il mio c'è un obiettivo prefistato ovvero quello di diciamo acquisire più immobili lasciare l'attuale lavoro godermi il tutto giù tornare a casa e avviare un business con un profitto maggiore a quello attuale ok inoltre c'ho c'ho un locale dove potrei anche aprire una diciamo una boutique come quella che tu hai realizzato che i ragazzi hanno realizzato a Roma e idee la mia richiesta è idea su Ragusa affitti brevi turismo siamo diciamo in una località ottima e diciamo non so se avviarlo da sola o avere un team cosa intendi per team c'è un team composto da team di due tre persone per esempio come ma che devono fare cosa acquisizione è subito affitto breve secondo me quello che dico sempre a tutti quanti rental pro o meno è quando tu dici che cerco un socio un qualcosa tu devi dire il perché sto cercando quella persona e cosa offri tu quindi sicuramente sicuramente è ottimale l'idea di crearsi un team perché ti permette di prendi uno in gamba sulle acquisizioni fa solo acquisizioni tu ti specializzi nell'avviamento in pratiche burocratiche e quello non lo so anche solo in due tranquillamente l'importante è avere ben chiaro cosa puoi offrire tu cosa stai cercando se entri in rental pro secondo me è il grosso vantaggio che quel qualcuno può essere un qualcuno che ripeto ha firmato gli stessi contratti tra l'altro in rental pro diamo anche dei contratti esclusivi ad esempio il contratto di collaborazione tra due affiliati dove tu già sei tutelato perché o tutelata perché avete entrambi firmato il contratto di affiliazione con rental pro ma c'è anche un ulteriore contratto fatto dal nostro avvocato Davide Orto che fa sì che tu possa collaborare con quell'affiliato stando ancora più tranquillo perché hai un ulteriore contratto da firmare con quella persona e perché no aprire anche uno spazio fisico nella tua città che è una marcia in più non è indispensabile ma è una marcia in più esatto esatto ok d'accordo grazie mille in bocca al lupo anche a te ciao una cosa che ci tengo a dire a tutti quanti coloro che sono magari un po' preoccupati da pagamenti cose ovviamente c'è la possibilità di rateizzare e talvolta insomma ci sono anche delle finanziarie attraverso le quali possiamo presentarvi e agevolarvi il processo eventualmente di ottenimento di prestiti e quant'altro per avviare l'attività devo essere onesto non sono un grande fan di questo genere di soluzioni però c'è chi è entrato in Rental Pro con queste opzioni proprio perché altrimenti non poteva non poteva fare altrimenti e comunque ad oggi insomma è stata una scelta saggia quindi per chi volesse o avesse soprattutto la necessità di rateizzare è possibile farlo con dei piccoli sovrapprezzi perché comunque c'è tutto il costo di gestione della pratica eccetera eccetera ma sappiate che c'è anche questa possibilità per Bambi Academy e a maggior ragione per Rental Pro Raffaele Raffaele Girola Raffaele Raffaele Scusami ho già parlato tolgo io la mano perfetto vai Davide Eccomi mi sentite? Sì ciao piacere di conoscerti ciao piacere mio saluto a tutta la community io volevo un attimino fare una domanda un po' più tecnica da premettere che mi sono perso la prima parte della della call quindi la mia prima domanda è questa ma Rental Pro alla fin fine è un portale che si sostituisce a Airbnb no perfetto assolutamente no il nostro obiettivo è di arrivare a migliaia decine di migliaia di case di maniera tale che noi andiamo dai nostri amici di Airbnb ebooking diciamo non devi fare più la percentuale al 15% fammela al 10 perché noi rappresentiamo un network di tantissime persone assolutamente no diciamo che stiamo lavorando in ottica di creare anche un booking engine che si sincronizzi ma non puoi far concorrenza da Airbnb booking al contrario poi magari ti puoi recuperare appena esce la replica la parte che non hai visto del webinar ma al contrario noi dicevamo proprio che diamo una sorta di badge digitale che tu puoi mettere all'interno degli annunci che garantisce tipo blockchain passami il termine che questo immobile è certificato rental pro e quindi al contrario noi ti aiutiamo ad ottenere più prenotazioni ad un prezzo più alto sulle piattaforme non è solo acquisire più immobili e convincere più proprietari ma è anche ottenere più prenotazioni ad un prezzo più alto differenziando il tuo immobile da quello degli altri e questo mi porta alla seconda domanda ora ho visto perché l'hai detto anche tu che diversi affiliati gestiscono decine di immobili chi 50 chi 60 chi 70 io nel mio piccolo ne ho gestito un paio e posso dire che il problema principale della gestione di un immobile chiaramente è tutto quello che c'è a contorno vale a dire il coordinamento con le pulizie con chi gestisce l'aspetto dell'immobile che deve essere assolutamente e manicalmente perfetto perché i clienti spesso basta qualcosa fuori posto e ti lasciano il feedback negativo ecco siccome è una parte assolutamente importante e e impattante su quella che è la gestione del del patrimonio immobiliare tra virgolette la domanda era Rental Pro fornisce anche questa tipologia di servizi o ha magari delle considerazioni o delle affiliazioni con chi gestisce questi servizi o comunque questo rimane tutto in capo all'affiliato allora noi non gestiamo immobili per conto dell'affiliato ma buona parte delle convenzioni servizi partnership che abbiamo fatto sono nate su base di esigenze degli affiliati quindi domani tu ci vieni a dire guarda sai che avrei proprio bisogno ho una carenza da questo punto di vista innanzitutto cerchiamo di risolvere il problema attraverso i nostri coach l'assistenza le live e quant'altro quindi oggi tu hai fatto questa domanda chiaramente in una live di un certo tipo non posso stare qui un quarto d'ora a risponderti con tutta una serie di soluzioni opzioni e idee però se fossi dentro Rental Pro no non voglio le soluzioni chiaramente volevo sapere no no è per farti capire comunque che si possono risolvere i problemi in tanti modi però allora esce fuori l'esigenza di una partnership che può essere di valore assolutamente noi ci adoperiamo per trovare magari un partner che possa gestire quel determinato tipo di problema o servizio di maniera tale di risolverlo un tuo problema e magari anche quello di tanti altri affiliati però se ho capito bene il tuo timore è quello di gestire tante case di aver paura di non riuscire a gestire tante case ho capito bene no 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 più che altro volevo capire se se rental pro dava anche questo tipo di supporto perché secondo me è fondamentale e determinante l'aspetto della contentezza del cliente perché prendersi un feedback negativo è un attimo e ti posso garantire che io sono sempre abbastanza molto abbastanza pignolo nel cercare di gestire al meglio quelle due tre proprietà che che ho attualmente lo facciamo a livello teorico secondo me nel senso cioè ti diamo ti spieghiamo come lo facciamo già non so se tu sei dentro Bambi Academy ma secondo me ecco adesso si spiega perché comunque a livello di formazione noi già spieghiamo come automatizzare determinati processi senza sacrificare la qualità del dello stay quindi del soggiorno dell'ospite tant'è che nonostante la molle di appartamenti che posseggo che hanno gli affiliati le recensioni sono comunque ottime è chiaro che se tu mi dici voglio avere 4,99 come c'ha magari Oreste che ha 5 case su 5 case riesce ovvio che su 100 case 4,99 non ce l'hai però magari 4,8 però dal punto di vista teorico io penso che ad oggi già offriamo tutta una serie di soluzioni che siano software che siano dispositivi che siano chicche diamo delle checklist ad esempio quindi da dare all'impresa di pulizia che devono compilare ad ogni fine pulizia con più di 50 punti da controllare prima di lasciarla a casa quindi tu sai che l'impresa di pulizia ti ha compilato quel modulo e te lo manda e quindi è una prova che tecnicamente per logica hanno controllato tutti questi 50 punti prima di lasciare l'immobile sicuramente è indispensabile responsabilizzare le imprese di pulizia perché tu non puoi essere onnipresente non puoi controllare tutti gli immobili è chiaro certo e poi l'ultima domanda di fatto Rental Pro è una una sorta di brand come l'avevi presentato tu che dà un valore aggiunto alla qualità degli immobili che poi vengono ad essere acquisiti da ogni singolo affiliato e che in un certo senso gira le comunicazioni che arrivano a Rental Pro da parte di chi all'interno dello staff mi sta le chiamate eccetera vede l'interesse di chi vorrebbe fittare a breve termine un appartamento giusto quindi se io mi affilassi a Rental Pro mi darebbe mi girerebbe tutti i contatti di chi ha intenzione di gestire un immobile nella zona di mia competenza non abbiamo un centralino che smista le chiamate anche perché poi magari il proprietario farebbe delle domande alle quali noi non sappiamo rispondere tipo signor Davide ma lei in che punto della città vive facciamo profilazione che facciamo nelle campagne marketing dove noi diciamo se hai un immobile se hai interessato a darle un affitto breve eccetera eccetera lasciaci il tuo numero di telefono quindi noi ti passiamo dei contatti che sono comunque già pre-profilati non ti contatta quello che pensa di avere a che fare con il rappresentante dell'aspirapolveri senza sacco ecco quello è uno dei vantaggi di rental pro non è solo quello c'è tanto altro ancora anche semplicemente un contatto invece che tu potresti già avere che hai conosciuto così al posto di presentarti semplicemente come Davide Davide di rental pro sì perfetto ottimo comunque ti consiglio comunque di prendere una consulenza con il nostro team che tanto è gratuita affinché ti possa anche mostrare il sito live ti fa vedere magari anche appunto come comunica rental pro ti può far vedere un esempio di una pubblicità fatta da rental pro e tanto altro ancora così lo capisci ancora meglio perché è un universo enorme potremmo starne qui a parlarne per 15 ore e non vi mostrerei tutto quello che ad oggi è rental pro però è molto utile c'è questa opportunità sfruttate va bene grazie grazie in bocca al lupo a presto finisco con le mani alzate e poi rispondo via chat ma per i prezzi ho detto contattate il team perché varia al variare di tutta una serie di parametri quindi non posso dire dei prezzi che dopo magari per la vostra situazione sono diversi Dario Dario devi attivare l'audio va bene Andrea aspettiamo che ah no ce l'ha fatta ce l'ha fatta vai ciao Dario sì ciao Volevo chiedere una cosa io non ho ancora iniziato l'attività sono un po' di tempo che vorrei tentare di prendere comunque BB Academy e cominciare con un'informazione a livello così allora io ho una una possibile acquisizione vicino shampoo look solo che non so come fare a convincere questa signora che è una signora anziana che non diciamo non vuole ancora mollare questo appartamento per fare fitti brevi le la vorrebbe dare soltanto annualmente e niente volevo capire un attimino se prima devo entrare in BB Academy e poi cercare di acquisirla o per cercare di acquisirla poi fare anche BB Academy per magari migliorare tutto quanto quello che è l'appartamento diciamo diciamo che tu hai riassunto un problema che poi in realtà è tutto il business cioè convincere una persona acquisire la casa pubblicarla e BB Academy dura più di 70 ore quindi capisci che riassumerti la soluzione qui in pochi secondi è impossibile quello che posso dirti è che un po' lo stesso diciamo la stessa reason why di Rental Pro vero il tuo obiettivo è solo prendere quella casa e basta no 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 io voglio iniziare con quella ma è un po' di tempo che voglio iniziare a fare un po' di tutto però siccome tu non puoi purtroppo comandare puoi avere anche la miglior formazione al mondo che è BB Academy ma tu non puoi avere l'assoluta certezza di riuscire a convincere questa questa signora e questo immobile quindi il mio consiglio è formati a prescindere studiati i BB Academy se poi prendi quella casa ti servirà per quella casa ma se non è per quella casa ti servirà per potenzialmente tante altre quindi tanto una volta che tu impari come andare in bicicletta e dentro di te non te lo toglie nessuno vincolare secondo me il fatto di iniziare un percorso meno al singolo immobile che ripeto potrebbe andare a buon fine come potrebbe non andare a buon fine secondo me è errato è come dire mi prendo la bicicletta solo se mi costruisco la pista non vuole mollare il colpo lasciar perdere e trovarne altro diciamo non per forza mollare il colpo magari una volta che hai studiato utilizzi delle leve che oggi non sai utilizzare e magari riesci a convincerla o magari non riesci a convincerla ma al di là di quello avrai imparato tante cose molto utili per gestire eventualmente quello o altri immobili ma soprattutto per avere più probabilità di convincere quella proprietaria o altri proprietari allora prima comincio col corso che forse è meglio diciamo tienila lì tienila in stand by magari insomma valuta magari è un po' che stand by è difficilotta da convincere diciamo magari potrebbe essere ma avendo magari l'esperienza di B&B non ho la capacità ancora di avere una leve in più diciamo potrebbe essere conveniente prendere l'immobile in sublocazione ma non puoi saperlo perché non sai valutare una sublocazione quindi capisci anche in property management magari è più conveniente in un modo o nell'altro ma devi avere delle competenze per valutare ciò fatti una consulenza fatti una consulenza con il nostro team che può fare una ricerca di mercato insieme a te live per vedere comunque le cifre in quella zona perché magari non hai idea neanche esatto di un potenziale andamento in quella zona quindi fatti una consulenza gratuita con il team e ti mostreranno anche in una zona specifica va bene ci ringrazio è stato gentilissimo bene a presto Andrea ciao Ludovico mi senti? sì ok io ti ascolto dalla Nuova Zelanda e sono finita praticamente sul tuo sito l'altro giorno ho visto che facevi questa live sto valutando se fare l'academy B&B e stavo valutando anche altri tuoi competitor è una settimana che sono che ho visto questa possibilità in questo momento mi trovo qui e sto cercando di capire se posso farlo diciamo da questa parte del mondo perché ho visto che qui funziona molto cioè tipo gli affitti qui sono settimanalmente quindi se si parla tipo della subloccazione non so ho guardato anche un po' i prezzi ovviamente io non ho le tue basi e non ho fatto il corso ancora però ho cercato un po' di apprendere tramite video che ho visto online e tutto ho guardato un po' il mercato e vedo che secondo me tra quanto lo prendi in affitto alla settimana e quanto ci puoi guadagnare affittandolo facciamo dieci giorni al mese ok che diciamo più o meno un minimo non secondo me non c'è mercato non hai guadagno non so se tu hai esperienze da questa parte del mondo non ho esperienze in Nuova Zelanda ma quello che dice ha senso cioè non si può dare per scontato che necessariamente la subloccazione sia la metodologia più più funzionale nelle varie testimonianze che facciamo la cosa bella è che sono tutti soddisfatti se no non farebbero delle testimonianze ma c'è gente che dice ah per me la subloccazione è la vita non fare mai property management e sono felicissimo così e c'è gente che dice tipo Patrick per me la vita il property management non fare mai più subloccazione perché non mi è piaciuta e non l'ha reputata come niente quindi il nostro corso che è il più venduto d'Europa ed è uno tra i più venduti al mondo con una community veramente importante tratta in ugual modo e molto in profondità entrambe le metodologie ma anche delle metodologie extra come la gestione online che non è nient'altro che prendere gente che già fa questo business in qualsiasi parte del mondo e migliorare il loro annuncio e prendersi una percentuale sui ricavi generati da questo annuncio quindi potenzialmente tu dalla Nuova Zelanda puoi operare in subloccazione ma magari non è conveniente non lo so poi ti spieghiamo come fare una ricerca di mercato e te ne rendi conto puoi operare in property management quindi convince il proprietario a darti le chiavi della casa e tu ti prendi un 20-30% sui ricavi che generi oppure tu dici io dalla Nuova Zelanda faccio gestione online di annunci negli Stati Uniti in Francia in Italia quindi contatti gli host già presenti ti spieghiamo come ovviamente nel corso come non farti bannare perché sennò Airbnb ti segnala per spam ti bloccano tutto e quindi chi se ne frega degli appartamenti in Nuova Zelanda vivi lì e guadagni con appartamenti altrove nulla ti vieta di fare ciò ok ma voi spiegate anche a livello giuridico questa cosa perché vabbè so che in Italia fino a 4 appartamenti puoi farlo senza partita IVA abbiamo siamo specializzati dal punto di vista fiscale e giuridico in Svizzera Italia ad esempio esiste poi Airbnb Academy in spagnolo lì non ci addentriamo perché spagnolo significa Spagna Argentina Bolivia c'è impossibile coprire la burocrazia di tutti i paesi quindi Nuova Zelanda non ti possiamo aiutare dal punto di vista giuridico ma Italia e Svizzera assolutamente sì sì la mia domanda era anche il fatto ad esempio se io gestisco degli appartamenti perché io diciamo la mia residenza io non l'ho spostata qui quindi sono ancora residente in Italia e diciamo gestendo degli appartamenti in property management metti li faccio a distanza ok come dicevi tu li posso fare anche in Canada in America a livello giuridico devo sottostare con l'italiano perché la mia residenza è ancora in Italia se sei residente in Italia e soprattutto se i denari transitano da un conto italiano sì e ovviamente ti parliamo anche di come puoi farlo come persona fisica quali sono i limiti perché si può operare anche come persona fisica sino ad un tot di immobili non ad un tot di incassi eventualmente ti puoi aprire una partita forfettaria ti spieghiamo i vantaggi abbiamo un commercialista convenzionato quindi assolutamente sì ok quindi tu mi consigli piuttosto di fare il corso B&B Academy o di fare anche questo perché adesso ti dico ancora un'altra cosa io sicuramente starò qui ancora un annetto e mezzo massimo due anni in Nuova Zelanda e poi tornerò in Italia poi non è detto che io non mi sposti dall'Italia perché io viaggio molto io in Italia ho una casa mia che in questo momento sto affittando su ho iniziato a affittarla da un annetto sì e sto facendo però affitti medio e lungo termine affitto camere e affitto le stanze che ho all'interno a studenti cose così e quella li ho deciso contro il mio interesse contro il mio interesse io ti dico secondo me rental però in questo momento non è un prodotto che fa per te essendo fisicamente in Nuova Zelanda forse poi torni in Italia quindi se lo avvii in Nuova Zelanda come spiegava il ragazzo della Thailandia siamo a Thailandia e poi te ne torni e quindi avviarlo in Italia dalla Nuova Zelanda come rental pro secondo me è un po' uno spreco quindi io ti direi rimani affacciata al mondo rental pro sicuramente inizia a studiare affitti brevi veramente voglio essere trasparente perché per me che entra un affiliato e poi non come dire non sfrutta il tutto è completamente inutile no no è per quello infatti che ho voluto parlarti comunque c'è la mia sera quindi domani mattina ho una avevo già pronotato una call con uno uno scagnozzo per quanto riguarda B&B Academy ottimo puoi approfondire con loro però secondo me il percorso B&B Academy straconsigliato rental pro in questo momento rischieresti secondo me di non portare un grande valore potrei già anche iniziare a sfruttarlo qui anche B&B Academy assolutamente sì lo facevo a prescindere e dicevo comunque in un futuro lo utilizzerò perché per casa mia quella proprietà che ho di sicuro e poi la mia idea è proprio iniziare a fare questo tipo di lavoro quindi ho detto va bene abbiamo tanti nomadi digitali in B&B Academy quindi ok in un futuro magari ci sarà possibilità di entrare ancora penso in rental pro spero dipende dalle zone dipende dalle zone chiaramente non so in che zona vuoi operare però ad esempio se la Calabria rimane così semi vuota e domani mi dici voglio operare in Calabria sicuramente sì chiaro che se vuoi entrare in una zona dove c'è già una forte densità di affiliati e lavorano bene è più difficile però valutiamo tanto la motivazione io sono di Brescia quindi c'è casa mia lì a Brescia quindi vabbè vedremo sicuramente ne avete usati affiliati a Brescia è una controlla forse ne abbiamo forse ne abbiamo uno mi sembra di sì però sul sito puoi controllare scrivi Brescia e vedi ok va bene ti ringrazio è stato gentilissimo a presto Dario hai ancora la mano alzata ma mi sembra che ti ho già fatto parlare mi sembra vabbè Marcello ciao Ludovico ciao Marcello buonasera buonasera a tutti io ti volevo mi volevo un po' agganciare un po' la domanda degli altri perché io opero invece su Dubai cioè vorrei iniziare a operare su Dubai io vivo a Dubai e ti volevo chiedere appunto se aveva senso appunto comprare nel senso attivarmi magari con con Rental Pro vivendo appunto qui a Dubai ho comprato B&B Academy da un mesetto sono ancora in fase di studio perché purtroppo col lavoro che faccio nel senso mi occupa parecchio tempo quindi diciamo che nei tempi che riesco a ricavare vado avanti con lo studio e vorrei attivarmi appunto con gli affitti brevi qui ecco qui a Dubai però avendo appunto già qui un paio di amici che si sono aperti la loro società di affitti brevi e lavorano proprio solamente con affitti brevi qui a Dubai loro l'altra sera l'altra sera sono stato a cena così e in confidenza mi hanno detto tu non puoi capire quanti soldi noi paghiamo di marketing e di advertising all'anno qualcosa come tipo 80 mila dollari ogni anno solo per appunto avere visibilità su certe piattaforme che poi dopo appunto li porta loro gestiscono 187 appartamenti e hanno comunque riescono a fare un'ottima occupazione però appunto quando mi ha detto quella cifra lì ho detto ok ho capito che qui se voglio iniziare a competere io singolo Marcello con appunto società che operano su grandi appartamenti devo anche io un po' crearmi questa mia visibilità un po' e quindi ti volevo chiedere se voi come team di Rental Pro avete intenzione se ha senso prima ti volevo fare una domanda a te adesso che hai iniziato a studiare Bimbiacatemi quando vedi le lezioni sei soddisfatto sei contento sì 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 io l'ho preso principalmente perché io sono già proprietario di un immobile a Fuerteventura ho vissuto in Spagna fino agli ultimi cinque anni ho vissuto a Barcellona ho avuto l'occasione di acquisire un immobile l'anno scorso appunto a Fuerteventura che al momento mi sta gestendo un'agenzia appunto perché io l'anno scorso ormai è un anno sì esattamente marzo dell'anno scorso l'ho acquisito essendo inesperto cercavo qualcuno che me lo potesse gestire a distanza io vivevo a Barcellona e ho trovato questa agenzia che però ti dico la verità non sono per niente contento dell'operato sì più che altro per l'occupazione perché è un appartamento che io sono andato a riformare tutto per intero ha un ottimo potenziale secondo il mio punto di vista ho una signora che al momento è in pensione italiana pensionata la classica pensionata che vive alle Canarie e lei mi sta gestendo diciamo un pochettino un po' il tutto però io sto pagando il 20% di ogni affitto a questa agenzia che semplicemente mi gestisce l'annuncio non fa nient'altro la gestione online di cui parlavo io esatto la ragazza precedente quindi io ho detto ho detto io mi sono già messo d'accordo con questa signora io ho detto perché lei anche lei mi ha detto guarda tu Marcello se non sei contento con questa agenzia sappi che se la vuoi mettere da parte io questo immobile non te lo lascerò ecco una domanda magari in confidenza che ti volevo chiedere questa persona essendo già in pensione io nel senso lei mi prende una cifra che è sempre la stessa lei mi prende 120 euro ogni volta che c'è un check out però lei gestisce anche la questione di fargli trovare magari la bottiglia di vino all'arrivo le pulizie segue diciamo proprio i clienti da là 120 euro pago i tre locali di lusso in pieno centro a Milano di pulizie all'impresa è un'esagerazione è un'esagerazione infatti è un'esagerazione nella community se cerchi bene secondo me trovi trovi qualche studente di Airbnb Academy che te lo fa molto meno o che conosce qualcuno che te lo può fare a molto meno non capito meno che non hai un villone incredibile di lusso allora 120 euro ci stanno no no è un 120 metri quadri con terrazza vista mare due stanze da letto doppie esageratissimo esageratissimo e non è neanche una professionista è una signora in pensione da quello che mi dici tu no ti dico la verità io al momento ho ricevuto sui 12 commenti su Airbnb 12 feedback tutti a 5 stelle uno a 4 stelle e tutti menzionano questa signora Marcella si chiama come me però versione femminile la menzionano appunto è stata molto gentile molto carina quindi è per quello che 120 euro io non pago nessuno 120 euro per farmi le pulizie su una metratura del genere comunque ottimi feedback quindi certo certo ho capito è anche un limite domani la signora Marcella speriamo di no ma gli viene un malanno e non ti va a fare check in e rimani nella cacca eh no 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 infatti vabbè io ho fatto già installare la la diciamo com'è che si chiama nel gergo tecnico Masterlock esatto la Masterlock esattamente quello col codice segreto che ti apre e c'hai già le chiavi o allora appunto la signora Marcella visto che c'è una certa età dovesse capitare qualcosa diciamo di no ovviamente però si rimane i topic rental pro per rental pro ti dico allora come stesso discorso non tanto dell'ultima ragazza che la vedevo un po' più incerta quindi vado forse vengo eccetera è come ragazzo dalla Thailandia quindi sicuramente puoi tu quando ti vendi dire eventualmente che sei affiliato di rental pro che ha comunque il suo sito in inglese e tutto quanto quindi da quel punto di vista ok lato campagna e marketing possiamo farle secondo me non avranno comunque la stessa non avrebbero la stessa efficacia delle campagne in Italia perché comunque in Italia noi abbiamo tantissime campagne che vanno assieme contemporaneamente quindi magari poi la campagna di Francesco pesca il lead in un'altra zona e Francesco lo passa a quello e quindi c'è tanta collaborazione quindi la campagna di uno può aiutare anche l'altro le possiamo fare sarebbe un test anche per noi sarebbe una cosa nuova anche per noi se ti basi solo sulle campagne per acquisire ti dico non posso garantirti che acquisire tantissime case ok ma se le combini al fatto che anche tu cerchi e sfrutti contatti eccetera eccetera sicuramente nel presentarti come affiliato Rental Pro rispetto al semplice Marcello quello ti può aiutare un sacco perché comunque il sito Rental Pro c'è lingua inglese quindi tutti questi vantaggi di solidità di branding sul quale abbiamo lavorato perché poi tutta reputazione oggettivamente sicuramente sono altamente percepiti anche da da un pubblico straniero ti ringrazio grazie mille complimenti grazie a te un bocca al lupo grazie carlos ciao ciao piacere ciao piacere no innanzitutto complimenti grazie anche per questa live poi in realtà su Rental Pro in particolare le domande che avevo più o meno le hanno fatto gli altri sul fatto di location eccetera poi abbiamo anche prenotato una consulenza dedicata per andare più nel dettaglio volevo giusto dire una cosa prima che mi ha fatto molto piacere quando hai nominato Iman Gazzi perché anch'io lo seguo molto aperto anche una agency con lui poi tra l'altro i soldi che ho fatto da lì ho poi entrato nell'investor program con voi quindi sono adesso nell'investor program e quindi ho fatto l'ho nominato come nelle strategie di marketing che utilizzate a Rental Pro è già qualcosa che mi fa anche molto piacere quindi poi da chiedere in realtà era più un dubbio una curiosità sulla tua opinione se secondo te ovviamente al netto che lo fai ovviamente bene ricerca il mercato giusto eccetera se c'è più margine o più probabilità più profitto nella sublocazione o nel far PM al netto ovviamente dei gusti personali eccetera ma proprio i numeri diciamo dipende dall'immobile perché ci sono immobili che nel senso l'immobile è lo stesso se tu me lo dai a 1000 euro magari è profittevole se lo stesso immobile me ne chiedi 1800 magari non ha più senso quindi è troppo soggettiva come cosa io ho un portfoglio di case in sublocazione e ho un portfoglio di immobili in PM lo stesso immobile in sublocazione magari se lo prendi al lago di Como preso ad aprile maggio è una bomba di guadagni in senso positivo se lo stesso immobile lo prendi a novembre magari un suicidio perché l'alta stagione a Como è dopo un tot di mesi quindi è molto soggettivo secondo me bisogna valutare caso a caso io chiedo perché al solito diciamo più più rischio in teoria dovrebbe esserci più guadagno e se vogliamo la sublocazione hai il rischio che stai prendendo su un contratto che se dovesse succedere qualcosa tu comunque per l'affitto devi continuare a pagarlo con 30 notti al mese o 0 notti al mese invece PM è meno rischio però invece non vedo questo tanto guadagno in più alla sublocazione cioè volevo giusto chiederti se è vero questo che c'è quel rischio in più che hai alla sublocazione poi lo vedi retribuito diciamo io rimango sempre molto aperto di mente io dico valuto ogni cosa valuto opzioni sono immobili che mi erano stati presentati in sublocazione ed erano sconvenienti in sublocazione sono riuscito a convincere il proprietario a farmi dare in PM e sono diventati inconvenienti o viceversa immobili che mi erano stati proposti in PM ho captato che le esigenze il proprietario si accontentava di poco gli ho detto guarda non facciamo così ti do io 1000 euro al mese garantiti non ti preoccupare niente poi me la vedo io con il rischio e magari da quegli immobili faccio dei margini incredibili quindi è molto soggettivo non ti posso dire perché ho immobili che mi fanno fare paccate di soldi in PM e ho immobili che mi fanno fare paccate di soldi in sublocazione è molto soggettivo rimani aperto rimani aperto a qualsiasi eventualità secondo me ok grazie qualcuno chiede come faccio a vedere se una zona è scoperta non esiste una zona è coperta o scoperta magari in una zona c'è già un affiliato ma comunque c'è spazio per un altro affiliato quindi rispondo a Sasi contatta il team e valutiamo assieme se nella tua zona insomma c'è possibilità di far entrare nuovi affiliati cosa significa immobili proposti in property management significa immobili dove non c'è un investimento di denaro perché tu dici al proprietario dammi le chiavi io ti gestisco l'immobile mi prendo non so il 20% di tutti i ricavi non non c'è assolutamente nessun tipo di costo e quindi il vantaggio è che tu puoi acquisire anche 30 case non spendi neanche un centesimo perché sono tutte case ad investimento zero e PM quindi sta per property management sublocazione invece devi pagare un canone di fitto quindi c'è un investimento una dinamica diversa spieghiamo chiaramente tutte le cose all'interno del corso e se entrate in rental però avete il corso incluso zona taranto puglia ci sono affiliati contattate il team e vi aiutano loro perché non me ne ricordo tutti sono più di 100 Cri in te ciao Ludovico eccomi ciao caro beh innanzitutto complimenti ti stimo un sacco mi piace un casino il fatto delle collaborazioni con con questa tua nuova attività di rental pro appunto e proprio collegato a questo prima quando stavate parlando di Lugano così ho sentito che hai un collaboratore a Varese e io sono socio a Varese ok e io sono di Varese e conosco un mio stretto amico che lavora in Remax quindi fa l'agente immobiliare così appunto se nel caso ci fosse un'opportunità di collaborazione sfruttando appunto questo mio amico che lavora in agenzia immobiliare ci starebbe un sacco anche perché vabbè io ora ho un immobile in sublocazione ma non ho tutta questa grande esperienza appunto quindi magari se il tuo socio che ovviamente il fotizzo abbia molta più esperienza di me riuscissimo appunto a collaborare tramite questo amico ci starebbe insomma assolutamente sì prima valuta se realmente questo tuo amico che lavora in Remax è disposto a come dire cedere immobili contatti eccetera 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 dopodiché se è realmente interessato puoi contattare Flavio trovi i suoi riferimenti sul sito di Lental Pro come tutti gli affiliati e via Flavio ok ok perfetto bene Arturo ciao allora intanto complimenti perché è veramente qualcosa di molto interessante io volevo farti un paio di domande siccome volevo capire intanto per quanto riguarda Lental Pro dell'esperienza di quest'ultimo anno quale potrebbero essere in base ai vostri dati in un anno già quanti massimo immobili una persona potrebbe gestire realisticamente ecco questo volevo capire è fisiologico nel senso abbiamo detto Patrick le ha 20 e rotti Simone mi ricordo anche più quanti tipo 100 al di là di Lental Pro ci sono studenti B&B Academy che in un anno ne hanno fatti anche loro 30 40 50 c'è gente che ne ha fatti 5 e dipende da tantissimi aspetti da tu mi dici proprio fisiologicamente per mia esperienza da sola una persona ne può arrivare a gestire dai 10 ai 15 automatizzando in una grande città questa per la mia esperienza cioè facendo prima un'analisi di mercato un po' di quelle che possono essere città con più potenziale immagino aspetta io ti sto parlando proprio di fisicamente riuscire a gestire immobili se poi tu dici quante proprietà uno riesce ad acquisire è una cosa diversa e anche lì ripeto Patrick ne ha fatte 22 ma che diventano mi sembra 38 a fine luglio e lui aveva pure la pizzeria Patrick è stato molto furbo perché ha puntato tanto sulle collaborazioni quindi lui ha tante case in zone dove non è neanche mai stato ti direi per fare una media ma per non sparare 10 così non ti sparo né un numero troppo alto né un numero troppo basso ma una media può essere un 10 case all'anno che è un ottimo risultato perché se ti metti 1000 euro in tasca a casa sono 10.000 euro chiaro lordi c'è di pagare le tasse però comunque trovami un qualcuno che guadagna 10.000 euro lordi al mese senza farlo schiavo per chissà che tipo di società perché comunque oltre ai guadagni questo business ma la cosa più importante che dona è il tempo è il tempo perché oggi è lunedì e io ero in piscina con dei miei amici che mi sono venuti a trovare guadagnavo gestito le mie cose dal mio telefono ma non è tanto i soldi tante gente che guadagnava un sacco di soldi ma è schiava del suo lavoro è il tempo unito al fatto che si guadagni bene assolutamente e poi un'altra cosa infatti volevo chiedere per quanto riguarda invece in PM quindi property management per quanto riguarda la percentuale o del 20 o del 30% di cui parlavate anche prima ma a livello proprio in dettaglio siccome io non vengo da questo settore come viene gestito poi l'incasso dell'affitto da parte del cliente finale cioè arriva prima al proprietario e poi lui paga noi o il contrario dipende dal tipo di accordo però di norma io preferisco anche incassa il proprietario e io gli emetto la fattura a fine mese poi altrimenti si può fare da sostituto di imposta incassi tutto te paghi tu le tasse per conto del proprietario con un modulo speciale i commercialisti lo sanno ti trattieni quindi fingiamo ha incassato 10.000 2.000 devono andare in tasse altri 2.000 sono il tuo compenso ne avanzano 6.000 poi tu rimandi 6.000 al proprietario già al netto quindi diciamo tutte queste pratiche siccome io sono un dipendente però vorrei aprire un SRL però come dicevi prima tu dunque fino a 3-4 casi in Italia si può anche lavorare tranquillamente senza partita IVA però in Rental Pro o comunque in B&B Academy ci sono dei consulenti avvocati che ci possono seguire passo passo nella fase iniziale ecco questa è la cosa principale assolutamente sì in B&B Academy abbiamo delle lezioni di conseguenza hai anche in Rental Pro ma addirittura entrando in Rental Pro hai anche una consulenza fiscale gratuita con lo studio allievi che è studio di commercialisti numero uno per tutto quello che è business digitale in Italia e poi sempre loro eventualmente se li fai diventare i tuoi commercialisti ovviamente ti possono aiutare con l'apertura di tutto quanto che sia inizialmente come persona fisica per poi sguicciare un forfettario SRL quello che vuoi tu e soprattutto raccontandogli la tua esperienza possono aiutarti a capire cosa è meglio non necessariamente magari l'SRL è la cosa più intelligente magari è più utile partire con un forfettario per questo te lo possono dire loro che appunto sono convenzionati con Rental Pro e quindi come Rental Pro essere un affiliato eventualmente in una regione tipo l'Emilia-Romagna per te potrebbe essere qualcosa di fattibile oppure no anche se io mi occupo di seguire tre regioni nel mio lavoro però l'Emilia-Romagna dove risiedo? Assolutamente diciamo che adesso secondo me nessuna zona è satura sicuramente Roma e Milano sono più competitive però si può andare a studiare poi in base a dove l'affiliato ad esempio noi abbiamo un'affiliata che si è presentata come Roma ma ha preso per lo più la zona di Ciampino quindi sì sei a Roma ed è Alessandra tra l'altro sta facendo veramente degli ottimi numeri poi prende anche i mobili pazzeschi in centro a Roma però per dire io reputo il suo core business ad oggi a Ciampino quindi anche se sei a Roma anche se sei a Milano contattaci e capiamo però tutte le restanti zone se vedi la mappa poi non è che c'è questa grandissima densità in determinate zone quindi secondo me sì e anzi talvolta proprio queste zone la Calabria Emilia Romagna Piemonte queste che uno penserebbe sono zone di serie B ma comunque se vai a vedere i flussi turistici sono molto importanti diciamo la Romagna non è proprio come turismo non penso sia proprio di serie B per quello dico però uno pensa sempre Milano Roma Firenze Venezia ma no proprio magari proprio in queste zone proprio perché uno pensa che non non funzioni e dove ci sono le opportunità migliori ripeto Simone Sabia si è creato comunque un impero a Borghetto Santo Spirito che non è proprio la località più rinomata della Liguria però comunque la gente ci va lui ha un monopolio praticamente tutti gli Airbnb sono suoi e quindi seppure in un luogo piccolo lui è stato un genio e fa il bello e il cattivo tempo quindi assolutamente sì probabilmente ti direi se dovessi scegliere tra una grande città o determinate zone dell'Emilia-Romagna vai in Emilia-Romagna che poi c'è anche tutto quel tessuto aziendale Motor Valley e cavoli vari quindi non è solo turismo ma c'è anche tanta utenza business molte fiere esatto infatti anche per quello gli affitti brevi proprio perché comunque analizzando un po' in questi passati moltissime persone ricercano proprio anche per 5-6 giorni una settimana in quasi tutti i mesi dell'anno ecco quindi ti sei risposto da solo assolutamente sì grazie mille a te bene qualcun'altra domanda se no passo a leggere un po' scusa sì una domanda ma se in un paesino piccolo si può si può fare affitti brevi bisogna capire qual è questo paesino piccolo se mi dici che è un paesino di mille anime non lo so però ci sono anche Corleone 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 penso sia abbastanza famoso per i vari film bisognerebbe vedere adesso posso vedere al volo non so neanche onestamente quanto quanto è grande però al volo ti dico già che ho trovato diverse strutture ricettive con anche un buon quantitativo di recensioni però per non darti una risposta superficiale il mio consiglio è contattaci su Instagram dove ci hai conosciuti e facciamo assieme una ricerca di mercato e ti facciamo vedere proprio live a Corleone come funziona l'IBMB l'ultima domanda ma per farla a Marineo si può spostare come scusa a Marineo è una piccola un piccolo paesino di 6.000 abitanti bisogna stesso stesso concetto bisogna fare una ricerca di mercato che ovviamente non posso fare in questo momento perché c'è poco tempo però tu contattaci o mandami il tuo numero di telefono insomma qua in chat ti contattiamo ci mettiamo qua in zoom domani dopo domani con una persona che collabora con me e apriamo e vediamo quanti B&B ci sono dove posso contattare io in chat in quale chat metti il tuo numero di telefono qua e mi occupo io di farti ricontattare va bene ok bene a presto buona serata a presto Arturo io ho già fatto le domande prima grazie perfetto allora leggiamo un po' la chat possibile richiedere una consulenza allora in generale chiunque abbia problemi a richiedere consulenza eccetera mandi il numero qua in privato e su zoom datemi un secondo che faccio una foto così non mi perdo niente ok se non riesco a pagare rental pro come posso accedere lo stesso ripeto c'è la possibilità di rateizzare c'è la possibilità di fare finanziamenti se il budget non lo permette io consiglio comunque in generale di entrare almeno nel business degli affitti brevi anche senza rental pro e poi c'è sempre la possibilità di entrare e dunque è corretto affermare che tramite rental pro si ha la possibilità di far sì che siano i proprietari di immobili a cercare noi pm sublocatori è uno dei vantaggi di rental pro il fatto di avere una serie di strumenti di marketing tali per cui vieni contattato anche da persone interessate quindi non è solo che tu vai a cercare ma sono anche loro che ti cercano ma è uno dei vantaggi room academy funziona ancora assolutamente sì è un business molto diverso perché si basa più sull'affitto di stanze camere da letto a studenti universitari è un business che non smetterà mai di funzionare secondo me è un po' più noioso rispetto all'affitto breve ha meno prospettive di crescita però assolutamente sì è possibile farlo do priorità le domande relative all'oggetto della live perché se no se iniziamo a farla diventare una live di carattere generale diciamo che diventa meno utile grazie grazie quindi davide abbiamo preso il numero dove si può scrivere per info allora o su instagram se mi seguite su instagram oppure potete lasciare anche qui in chat il vostro numero e vi faremo ricontattare ha anche un altro ho lasciato il numero in un paesino piccolo si può fare affitti brevi assolutamente sì bisogna solo controllare se non c'è già come dire molta concorrenza al contrario magari uno scopre che tipo io a Isernia mia famiglia è molisana non l'avrei mai detto ma a Isernia c'è un grandissimo mercato di affitti brevi eppure in Molise non è particolarmente diciamo rinomanta come città eppure a Isernia c'è un grandissimo mercato di affitti brevi ed è un paese piccolo quindi perché no Corleone c'è anche tutto il museo quindi assolutamente secondo me potrebbe essere un'ottima zona senso partire solo con B&B Academy o c'è poco margine per crescere i tempi di acquisizione sono lunghi allora senso partire solo con B&B Academy assolutamente sì perché sennò sarei un folle a proporre B&B Academy come prodotto se non funzionasse funziona assolutamente come no abbiamo un sacco di testimonianze positive anche solo di B&B Academy sono due prodotti diversi come dire voglio andare alle Maldive in business class o in first class sono entrambe due ottime esperienze però la first ha quel qualcosina in più rispetto alla business però entrambe sono un'ottima esperienza diciamo così i tempi di acquisizione sono molto lunghi dipende dall'impegno che ci metti c'è chi ci mette due settimane c'è chi ci mette due mesi l'importante è non perdersi d'animo c'è una community di riferimento Centro M&B Academy a voglia c'è la community Facebook c'è la community Telegram nazionale ci sono tutti i gruppi per ogni singola regione più i vari paesi Svizzera Spagna Francia eccetera la community Toscana tra l'altro leggo che sei di Lucca è veramente veramente ottima aspettate che mi devo segnare tutti i vari numeri di telefono ok Giusy l'abbiamo recuperata anche qua un altro numero ok puoi rispiegare brevemente di cosa si occupa Rental Pro riguardati da live ma per fartela molto breve è un franchising di affitti brevi grazie al quale ti puoi presentare in maniera più professionale acquisire molti più immobili ottenere più prenotazioni ed avere tanti strumenti di marketing e non solo che da avere in autonomia sarebbe impossibile riassunta brevemente poi ci sarà una replica come si chiama il software per controllare la concorrenza Badly Go scrivo qua in chat e anche lì ci saranno delle novità incredibili a settembre alle quali stiamo già lavorando adesso ma le rilasceremo da qui a settembre la fila ingresso si paga solo una volta sì quanto dura il contratto il contratto se non ricordo male è durata di tre anni ma si rinnova senza nessun costo aggiuntivo se tutto va bene quindi insomma potenzialmente paghi quella cifra e basta conviene puntare sugli affitti stagionali e ascoltate poi la testimonianza di Patrick che uscirà sul nostro canale perché parla proprio di quello di affitti stagionali sì la risposta è sì fatto con conizione di causa pratiche burocratiche PEC eccetera un attimo ok un altro numero se avete numeri di telefono perché volete essere ricontattati potete anche inviarli su Instagram oppure qua se avete problemi hai una sales page con tutti i videocorsi fatti da te diciamo che il nostro videocorso principale è B&B Academy poi abbiamo fatto dei piccoli corsi di aggiornamento per chi volesse imparare a utilizzare Excel in maniera migliore però diciamo che B&B Academy nel corso principale comunque contatta il team in caso ti possono spiegare quali sono gli altri business che andiamo a trattare come posso vedere la replica su Instagram daremo le istruzioni iscrivimi su Instagram comunque e ti potremo inviare il link o se sei già nella mailing list la riceverai riceverai quindi se siete nella mailing list riceverete la replica via mail non vi preoccupate torniamo a vedere un po' di messaggi vecchi ha senso affiliarsi a Rental Pro appena iniziato il corso se gli obiettivi che vuoi raggiungere sono obiettivi ambiziosi sì comunque guardati la replica ischia ischia mi sa che non abbiamo affiliati sicuramente sarebbe utile avete le procedure standard che chiedete proprietario cambia per ogni contatto abbiamo parlato più e più volte ci sono un sacco di live registrate che eventualmente potrete trovare dentro Rental Pro dove andiamo proprio ad analizzare come convincere un proprietario c'è una live epica che ha fatto Oreste che ha vent'anni di esperienza nel settore immobiliare dopo che ha fatto la live è arrivata Alessandra ho utilizzato i consigli di Oreste e ho acquisito quindi sicuramente è un tema trattato tra B&B Academy live di Rental Pro per tantissime ore vorrei associarmi a Rental Pro con chi devo parlare beh Carolina contattaci insomma abbiamo messo i link tante volte Rental Pro serve più per quelli che vogliono fare sublocazione OPM è indifferente puoi fare entrambe le cose è utile a 360 gradi sarebbe come dire il marchio Remax è utile solo per fare affitti o per vendere anche le case un buon brand lo utilizzi per fare tutto quanto tant'è che McDonald's ti vende i panini poi ti vende anche il caffè ti vende anche il gelato può diventare affiliato solo una persona fisica anche una società potete entrare come persona fisica potete entrare come società come partita IVA individuale forfettario quello che volete ma direi che ho risposto quale software consiglia per automatizzare il tutto channel manager schedine tassa di soggiorno diciamo che purtroppo non esiste un software realmente ognuno ha un handicap li ho provati tutti ma ma ci risentiamo prossimamente con Badly Go perché stiamo lavorando alla soluzione a tutti i mali dei channel manager a Bologna è meglio Airbnb o affitto a studenti dipende dall'immobile avete affiliati nel nord della Sardegna mi sembra uno ma per quanto è grande il nord della Sardegna anzi dovremmo averne molti li pioviamo tantissimi studenti Airbnb Academy fanno delle cifre incredibili avremo bisogno di molti più affiliati in Sardegna posso entrare il rental pro anche se appena ho iniziato in forma non imprenditoriale assolutamente sì tantissimi sono entrati in forma non imprenditoriale e poi ovviamente hanno scalato il business hanno acquisito un sacco di case e sono passati a forma imprenditoriale cioè tu fai un contratto con rental pro come dicevo prima non ci sono vincoli o cose strane o limiti entra nella forma che vuoi puoi evolverti come vuoi noi saremo sempre lì ad aiutarti chiaro che ciò spieghiamo che poi una persona inizia a acquisire tante case passi a un forfettario e poi si spera un domani da un forfettario diventi farfalla diventi un SRL ah c'è una mano alzata scusatemi Davide ciao Ludo buonasera a tutti buonasera allora io ho solamente una domanda per quanto riguarda il corso di B&B Academy io ad ora non sono iscritto da nessuna parte quindi ovviamente neanche in rental pro eccetera mi affascina il mondo assolutissimamente sì grandi prospettive assolutamente sì ho come proprietà una casa in Salento che penso molti conoscano già solo la zona in Salento quindi penso che sia già rinomata di sé e sono lì per acquistare appunto il corso di B&B Academy l'unica domanda che mi sorge spontanea così all'inizio è nel momento in cui un ragazzo una ragazza finisce il corso B&B Academy nel senso nel momento in cui finisce dove si va a trovare nel senso si trova in mare aperto le acquisizioni è come una chiamata proprio un call to call col cliente si deve andare a cercare lui gli appartamenti da poter prendere in PM io lo seguirei esclusivamente solo per PM non per sublocazione non mi interessa diciamo ad ora il mondo della sublocazione mi affascina particolarmente il mondo PM ecco quindi nel senso anche perché ti dico avendo avuto esperienze personali soprattutto in Salento a volte forse magari è un argomento che trattate tranquillamente nel vostro corso B&B Academy questo non lo metto in dubbio per quanto riguarda la questione pulizie ecco nel senso non so se già voi anche suggerite adesso io chiamo da Legnano cioè quindi io parlo da Legnano abito a Legnano che è in provincia di Milano tanto per darti un'ottica conosco conosco tanto che hai nominato Casorezzo prima infatti ho detto cazzarola se già lo dico pensa che Casorezzo sia in mezzo al nulla magari Legnano però vabbè è famoso anche per il Palio dopo quello di Siena ovviamente però è molto famoso anche per il Palio qui a Legnano però il discorso è proprio questo la preoccupazione maggiore che ho è una questione di gestione pulizie cioè pensare che magari io ti parlo del Salento perché ho casa lì ho conoscenze lì quindi nel senso è un mercato un po' sferescente lo chiamo ma da anni ormai il Salento ha avuto un boom clamoroso una decina quindicina di anni fa ed è tuttora sull'onda quindi nonostante non sia più come i tempi però alcune zone ancora sì però nel senso se voi già suggerite come magari B&B proprio Academy alcune società di pulizie di cui avete già appurato la serietà la diciamo il lavorare bene ecco ed è una cosa che mi spaventa anche se devo dirti dovresti prendere un appartamento qua su Legnano ok nel senso lì dovrei chiamare io come dovrei chiamare magari i proprietari di casa oppure alla fine del corso io ho già parlato con Max che è un ragazzo di B&B Academy che segue la zona di Torino se non vado errato una cosa per volta perché hai sparato sì sì imprese di pulizie noi non offriamo la singola impresa di pulizie perché se poi succede qualcosa con quella ci vengono a fare i fotografi sì abbiamo fotografi certificati in Italia quello sì abbiamo però delle community pazzesche vi faccio vedere a parte che mentre ero in chiamata mi sono arrivate pronotazioni su pronotazioni cioè B&B B&B quindi non posso stare tranquillo mezzo secondo che mi bombardano ma vi faccio vedere quando tu apri la community telegram B&B Academy se questa roba mette a fuoco ci sono tutti i nomi delle regioni Sicilia poi vabbè c'è Como Brescia Bergamo perché magari è un agglomerato poi ci abbiamo Lombardia Firenze Toscana Milano e Provincia Emilia Romagna Sardegna Roma e Lazio Piemonte quindi tu hai oltre alla mega community nazionale su Facebook la mega community nazionale su Telegram sono tutti micro gruppi regionali e quindi tu vai lì nel gruppo e cerchi ho bisogno di un'impresa a parte che se fai la ricerca sicuramente trovi già nei messaggi vecchi uno storico di imprese che possono essere state consigliate ma il bello della community è proprio questo è ovvio che Ludovico non posso come dire garantire imprese di pulizia in tutta Italia quindi il bello della community che è stata una community molto sana che io ho coltivato proprio con uno spirito collaborativo e quindi ho sempre detto ragazzi aiutatevi gli uni gli altri perché questa cosa verrà ripagata e così è stato quindi se tu hai bisogno di un'impresa qualora non la trovassi o qualora non trovassi uno storico lì saranno gli stessi studenti vimbiacademy della zona che utilizzano quell'impresa di pulizia e si trovano bene a consigliarti ma non è questo gran problema assurdo abbiamo veramente degli studenti che hanno delle case incredibili ce n'è uno che ha Tarros che è una riserva naturale in Sardegna sperduta nel nulla che ci puoi andare solo con un SUV perché non ci hanno manco le strade e questo ha un'impresa di pulizia che va a pulire lì e tu vuoi che in un centro abitato non trovi qualcuno che ti vada a pulire gente sul cucuzzolo della montagna ha imprese di pulizia che vanno a pulire questo è un non problema ok no no infatti era una mia preoccupazione perché ho detto essendo che ho avuto esperienze in passato mie private negative più che altro giù quindi parlo del Salento dove le pulizie venivano fatte sì ma non come mi sarei aspettato io ok ho detto magari poi infatti già con Max avevo parlato e infatti mi dissi io a quanto ho capito non avendo fatto ancora il corso la differenza ciò che differenzia il vostro corso rispetto ad altri corsi chiamiamoli paritari o concorrenziali a sto punto mi viene da dire concorrenziali ok è la community cioè quindi questa interazione che c'è tra tutti gli studenti in una chat che sia telegram che sia whatsapp che sia quel che si vuole però è un aiuto a vicenda e infatti mi ha colpito appunto una storia di una ragazza che lei abitava mi sembra qui al nord non mi ricordo se è Milano o provincia e ovviamente io sono meridionale quindi mi si accendono proprio le antenne mi si direttano quando ha preso una casa a Sant'Embi di Leuca e ho detto cazzarola cioè io magari al posto super potrei essere stato io no? potevo esserci io perché poi alla fine sono anche di zona conosco la zona eccetera eccetera quindi vedo come possibilità di business una reale opportunità poi ho seguito la storia di Patrick quindi lì è stata all'ennesima potenza ovviamente perché ci faccio vedere solo oggi solo nella community telegram senza considerare regionali solo oggi quanti messaggi sono stati inviati ok qua in alto c'è scritto oggi faccio vedere solo oggi sì sì e questa community esiste dal 2019 sono cinque anni sì sì esiste questa community ed è tuttora imperativo solo questi sono i messaggi di oggi solo nella community nazionale telegram senza considerare quelle regionali e non è che si parla di quanto ha fatto l'Inter la Juve cioè no beh certo si parla di il calcetto fiti su baffitto cioè in senso no ce n'è di roba e l'ultimo messaggio è comunque delle 11 di sera quindi cos'è un'ora fa quindi sì 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 molto attiva dove non vieni mai lasciato solo a volte rispondiamo noi a volte risponde prima l'altro l'altro studente che può avere già la risposta quindi non esiste praticamente che uno viene abbandonato e poi non viene abbandonato e poi c'è la community facebook con anche lì i coach che rispondono i post vengono approvati quando ti viene approvato ricevi risposta sicura quindi insomma è impossibile e Ludo per quanto riguarda invece l'altra domanda che forse tra le 1500 cose che ho detto sia un po' persa nell'etere una volta che finisci il corso l'acquisizione degli appartamenti nel senso è un prendere il telefono chiamare tu fisicamente persone a caso passami il termine a caso nel senso no oppure andare in agenzia agenzia e chiedere se c'è qualcuno interessato allora con Rental Pro è un discorso a parte senza Rental Pro ok senza Rental Pro ci sono a parte nel corso ti diamo un po' d'insights sono mille possibilità può essere chiamare degli annunci può essere andare da delle agenzie immobiliari può essere contattare annunci su Airbnb per proporgli collaborazioni può essere collaborare con altri studenti Airbnb Academy che hanno fatto degli annunci sono tantissimi annunci ogni giorno di studenti che cercano qualcuno per collaborare in Vale d'Aosta qualcuno per collaborare in questa città qualcuno per collaborare in quell'altra quindi mille opportunità può anche essere semplicemente prendi la rubrica telefonica ah è vero cazzo c'è questo mio ex collega che aveva una casa in montagna e quello può diventare un tuo fai un po' tanta gente dice ma io non ho tanti follower su Instagram ma anche se tu hai 300 follower sono comunque ragazzi 300 persone noi siamo ormai talmente malati da questi numeri folli che sembra che se non hai un milione di follower non sei nessuno ragazzi ma 300 persone sono tantissime se anche solo il 10% delle persone i tuoi follower conosce qualcuno che ha una casa o ha una casa sono comunque 30 proprietà capisci che banalmente anche da una tua storia poi è chiaro che tu fai una storia uno ti fa due domande non gli sai rispondi ti dice prima cosa quanto pago di tasse tu non gli sai rispondere hai perso come funziona la dichiarazione di redditi non gli sai rispondere sei perso comunque devi avere le competenze per convincere il tuo interlocutore ma potenzialmente tra la tua rubrica telefonica il tuo Facebook e il tuo Instagram tu una casa la tiri fuori sicuro e poi devi essere furbo a creare io li chiamo meccanismi di incentivazione questa è una chicca che ti do e spiego ovviamente nel corso proprio quando abbiamo fatto un mantra ed è crea un sistema tale per cui le persone vogliono portarti casa tu gli dici al tuo fisioterapista al tuo parrucchiere al tuo dottore al tuo barbiere sai che ogni immobile che mi porti che io riesco a firmare in affitto breve ti do 200 euro il barbiere tutto il giorno a contatto con la gente e il barbiere romperà i maroni a ogni singolo cliente ma per caso è un immobile in affitto è un immobile sfitto perché sai ho un amico che è molto bravo con gli affitti brevi sicuro diventa il tuo miglior alleato ti può portare tantissime case sempre però ovviamente sapendo come convincere poi un eventuale interlocutore ti posso portare 100 persone interessate ad affitti brevi ma se non sai rispondere ai loro quesiti ovviamente cose che impari nel corso in 70 ore di corso se non sai rispondere ai loro quesiti è completamente inutile ok perfetto ti ringrazio Ludo bene grazie mille ultimi secondi per fare domande perché ancora non ho cenato sto morendo di fame quindi se qualcuna domanda già possiedo badlygo ed è favoloso ma per ora mi conviene smobu e checkin.io o altri software che ritieni un po' migliori smobu e checkin.io è una buona accoppiata la reputo è una buona accoppiata poi un bel lico ci saranno degli aggiornamenti interessanti informazione personale meglio contattare un proprietario di casa per fare pm direttamente in chiamato anche come contatto tramite messaggio può andare bene per messaggio difficilmente ti risponderà comunque qua il team bambi academy vi sta lasciando i link per prenotare una consulenza con il team avere maggiori informazioni su Badly Go in ogni caso col secondo link andate sul sicuro che sia per Badly Go che sia per rental pro che sia per bambi academy voi prenotate una consulenza e poi col consulente capite senza impegno in maniera totalmente gratuita cosa fa al caso vostro magari niente fa al caso vostro magari è buonanotte magari è bambi academy magari è rental pro quindi il tuo bambi migliore quanto ti fa al mese ecco io non ragiono al mese io ragiono all'anno perché ho un sacco di ville portocervo che non mi fanno al mese perché sono mesi che mi fanno zero perché sono chiuse e ci sono mesi che mi fanno 20.000 euro di provvigione dipende molto diciamo il bambi migliore è ovviamente una gran bella villa sulla quale una provvigione neanche troppo alta ma siccome va ad importi molto elevati parliamo di cifre importanti non voglio parlare di questi numeri a volte può sembrare uno schiaffo di povertà o può sembrare anche poco credibile però allora un account che ho di solo pm non faccio vedere live un account che ho di solo pm aspettate ha fatto nell'ultimo mese non mette a fuoco e niente però dico io questo account che è secondario 82.000 euro di prenotazioni con una media del 30% 30 per 80.000 solo questo account ha fatto 24.000 euro di provvigione in property management e parliamo di ultimi 30 giorni quindi parliamo di aprile che basta stagione quindi lo stesso account non so se lo vado a controllare a settembre quindi mi parla di agosto almeno tre volte tanto li farà chi gestisce case gestisce già diverse case ma tutti nei centri storici consigli Rental Pro Bambi Academy non è cosa gestisce adesso e cosa vuoi ottenere se vuoi ottenere molte più case sicuramente se puoi accedere a Rental Pro se hai tutti i requisiti va bene Rental Pro se non hai requisiti non hai il budget comunque con Bambi Academy hai la miglior formazione diciamo che la formazione come base Bambi Academy va benissimo anche più che base però ripeto se puoi accedere a Rental Pro hai della roba in più sicuramente interessante ok cosa ne pensi degli affitti stagionali se presi nel giusto momento e facendo un'opportuna ricerca possono essere ottimi 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 affari posso vedere la registrazione sì poi manderemo la replica è prevista una clausola di risultato minimo garantito che se non raggiunto dopo un periodo fa scattare un rimborso della FII no perché può anche non essere colpa anzi sicuramente non è colpa nostra se non raggiungi un obiettivo minimo garantito che ti sei prefissato visto che tanti altri lo hanno raggiunto c'è chiaro che se io dico prendi questa bicicletta ci puoi fare una maratona né 100 persone non riescono a fare una maratona di triathlon una gara di triathlon dico ok allora la bicicletta è scarsa ma se 60 persone ce la fanno e 40 no il problema probabilmente non è la bicicletta ma sono le 40 persone che non erano sufficientemente motivate o allenate quindi no non possiamo rimborsarti perché magari tu non c'avevi voglia quanti appartamenti in gestione consiglio utilizzare un channel manager sin da subito perché se ti vai in overbooking anche solo con un immobile sono cavoli amari bene ragazzi io vi ringrazio tantissimo veramente apprezzo il fatto che che siate stati online sino a a quest'ora apprezzate anche voi il fatto che anch'io sia stato online senza cibo in corpo il self non lo fai più assolutamente sì stavo valutando se tornare a parlarne pubblicamente ma sì stiamo investendo tantissimo in in amazon advertising dico sempre in massima trasparenza vi faccio vedere dall'app di american express che mi levano praticamente ogni giorno soldi dalle amazon ads ma sì stiamo continuando a farlo affiliati nell'ordere alla sardegna mi sembra che ne abbiamo solo uno ma fatti vivo perché abbiamo bisogno abbiamo abbiamo carenza non abbiamo più un corso di self publishing attivo quindi non so se il corso mi sta chiedendo il nome non abbiamo nessun corso attivo stiamo semplicemente continuando a fare questo business non mi arriva la password l'sms per american express ma sta andando molto bene stiamo investendo molto nelle ads perché abbiamo dei libri che vanno molto 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 bene bene ragazzi grazie a tutti di essere stati qui con noi ancora una volta contattateci su instagram se siete già in contatto con qualcuno se volete una consulenza gratuita con il nostro team e magari facciamo una live non lo so vediamo prossimamente per per proseguire diciamo questi questi discorsi se qualcuno ancora dubbi non è sicuro ma se lo faccio lo annunceremo nei nei vari canali perché ho chiuso il corso non è che l'ho proprio chiuso semplicemente abbiamo preferito dedicarci sugli affitti brevi a livello di formazione perché secondo me siamo veramente i numeri uno in Europa siamo nella top 3 al mondo mentre a livello di self publishing bravi ma non i numeri uno io faccio le cose solo se posso essere il migliore in ciò quindi continuiamo a fare il business ma non stiamo pubblicizzando il corso perché comunque l'affitto breve mi mi genera molti più incassi la registrazione verrà caricata in bambi academy no perché non è una live esclusiva su bambi academy ma ci sarà una replica comunicheremo poi comunque su bambi academy eccetera il link per vedere la replica buonanotte a tutti ragazzi grazie mille a presto ciao